Salve a tutti, sono Mattia. Per le amiche più intime, Matioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Facce di Nerd 330, la 330esima puntata della rubrica settimanale in cui parliamo delle ultime notizie dal mondo del cinema, delle serie tv, della cultura pop, nerd, geek, scatafrunzel soprattutto, e lo facciamo con tantissimi ospiti. Oggi l'ordine particolare. Abbiamo per primo Dark Andros. Buonasera, buonasera a tutti meravigliosi. Questa cosa mi ricorda i vecchi tempi, che ormai sarà quasi un decennio, un decennio no, però sono 5 o 6 anni, dove si andava in ordine alfabetico. Io ero sempre il primo. Quindi questa cosa mi ricorda i vecchi tempi. C'è un Amarcord nell'aria fantastico. E come sempre sono contento di essere qui con voi. E c'è una lacrima che solca la nostra mamma. Eh sì, eh sì. Travatar 91! I grandi momenti. Che dire, in questo main event parliamo di un trailer che non ho visto, di una serie che non ho visto, spin-off di una serie che non ho visto, trattato di dei libri che non ho letto. Mi sento molto a casa oggi. Sei preparato? Ma anzi, è bella, però non li hai visti proprio, stavo per dire. Però ho visto niente. Bella è l'opinione di qualcuno che non sa, invece rifiuto totale. Michele Innocenti! Quale sarebbe la serie di cui dobbiamo parlare? Non ho idea di cosa state parlando. Vabbè, lo scoprirò. Scritto nel titolo comunque. C'è un titolo sopra la mia testa. Sì, sì. Che bello. Buongiorno. Che ne stampa, fa casino. Vergogna. Scusate, scusate. Ragazzi, io vorrei sottolinearvi il gesto eroico che ho fatto. No, erotico. Erotico? Come siete maliziosi. Però c'entra qualcosa, in effetti, perché vanno sottolineati i gesti eroici e erotici. Io in questo momento sono qui a faccia di nerd, quando a dieci minuti da casa mia c'è Rose Villen che presenta il disco al centro commerciale. Eh, 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 eh. Invece di essere lì, con il ginocchio, a piangere. Volevi andare a fare click boom boom, eh, maiale, porco, laido, vero. Io spero, io spero che il pubblico del dottor Matioschi e lo stesso dottor Matioschi apprezzino questo sforzo disumano che, devo dire, è stato giustamente e abbondantemente ripagato dalla camicia semiaperta di Andros. Ah, no, 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 che bello. Non tutto il mal vi è per nuocere. Paolo Innocenti. Comunque ricordiamo sempre meglio Rose Villen a letto che Michele Alchilo. Detto ciò, è un piacere essere qua, vi voglio bene a tutti e quindi andiamo avanti. Ciao. Uomo che sapeva troppo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Non vedo l'ora di vedere Michele così, nudo, anzi vestito come a Rose Villen. Io se ci fossi stata a Rose Villen forse avrei fatto la live con lei, ci sarei andato al centro commerciale, avrei detto Rose saluta. Vedi, Michele non ha il mio approccio così giornalistico d'inchiesta. Vabbè, però gli vogliamo bene, gli vogliamo bene perché è un po' e poi continuate. Povero il luso se pensa che Rose Villen lo consideri. Sì, esatto. Alex Ignazio. Salve, io purtroppo il titolo della live l'ho letto stanotte, ho detto oh no, devo guardare per forza sto trailer e l'ho fatto. Sono due, neppure uno, due. Mannaggia, allora mentre parlate... Quello per i neri e quello per i verdi. Vabbè io... Che detta così, sono inclusivi. E' tanto razzismo in Rachel. Inclusivi. Vabbè allora... Non fraintendete il nome di... Quello dei neri che sono quelli per cui tifo, quindi va bene. In generale gli afroamericani ti sono simpatici. Poi abbiamo il signor F, salve. Non ci sto capendo più una minchia con questo ordine, non so, dico quando arriva, non so. Sei l'ultimo. Buonasera, ma sapete che io ancora i trailer di House of the Dragon non li ho visti? Ho visto la prima stagione, mi è piaciuta talmente tanto che appena è uscito il trailer ho detto... Ah. Comunque io sono andato... Ma cosa siete a fare qui? La professionalità! No vabbè, vedrò. Pensa a Mattioschi che invece io ho visto tutto. Vi beccherete la reaction in live. Ecco perché è primo. Comunque sono andato a ricontrollare prima. In effetti sei anni fa vedo la prima puntata di Facce di Nerd. Ma le poche dirette... A parte che prima c'erano stati il Nerd Movie Planet, eccetera. Sì, sì. Però le live prima del canale sono bellissime perché si intitolano Uno, Game of Thrones, settima stagione, cosa succederà? Però è una disfatta incredibile la risposta potrebbe essere oggi. Le vecchie live con Hangouts, come si chiamano? Ma perché ragazzi, qui scusate, qui devo far valere l'importanza del membro perché penso senza la parola membro, perché qui siete tutti freschi, ma io c'ero ancora dall'epoca, guarda la frase, lo vedi? Io c'ero quando lui, con la V, quando lui ancora faceva Nerd Movie Planet, io c'ero con la V. Andros aveva la barbettina e i capelli legati con la coda, proprio come c'era ancora giovane. No, ma la live prima era Il computer potrebbe esplodere, si intitola la live. È vero! Tutto maiuscolo, Il computer potrebbe esplodere live improvvisata. Credo la recupererò perché questo titolo mi... No, ma se chi vuole, chi vuole veramente, c'è un finale di un faccio di Nerd, forse ancora nel Movie Planet, non lo so, che si chiama Saluti Scroscianti sulle rive del tempo. Dovete cercarlo, perché se no non lo trovate, credo che se lo dovete cercare, perché sono Forse perché, sì, si era spento il computer, mancavano cinque minuti, quindi abbiamo fatto una diretta per salutare apposta. Sì, bellissimo, bellissimo. Potrebbe darsi. Che bello. È tipo la post-credit, stupendo. Sì, sì, ma è una perla rarissima quella. Ma, proprio mentre eravamo pronti per andare in onda, è arrivato un trailer. Questa è una settimana carichissima di trailer. Sì, vero. Di alcuni abbiamo parlato nelle puntate dello show, quindi qui privilegeremo quelli che ancora non sono stati analizzati. e questo, appunto, essendo appena arrivato, è il nuovo trailer di The Penguin, la serie tv spin-off del The Batman di Matt Reeves, con protagonista Colin Farrell, e che finalmente dovrebbe arrivare quest'anno. Hanno spostato il secondo film di 365 giorni, ma almeno sta soddisfazione. Cerchiamo di parlarne, signor Andros. L'era è qui, prontissimo, ci dica. E che soddisfazione, devo dire. Ma già, allora, già quando si era visto, che poi, questo qui non è, ricordami un attimo, questo qui non è il primo, è un secondo trailer, perché io mi ricordo che l'ho già visto. Sì, secondo. Hanno fatto uno sneak peek. L'altro era un po' featurette. Sì, esatto, che c'era, e ne avevamo parlato, appunto, no, anche qua a Facinelde, perché io mi ricordo, già mi era rimasto talmente tanto, e ne avevamo parlato tanto bene, appunto, già del primo, proprio perché in quel poco, anche già, che si vedeva, era già straconvincente. Tanto più che ne avevamo parlato per un'ora e mezza, un trailer da 20 secondi. Cosa che faremo anche oggi. Cosa che faremo anche oggi, assolutamente. Ma perché? Perché se c'è da dire, c'è da dire, cioè, e qui c'è tanto da dire. Questo trailer convince, cioè c'è poco da fare, convince tutto, mi piace tutto, mi piace lui, queste cose che avevo già detto prima, ma ancora di più in questo trailer, mi piace lui, mi piace la continuity, immaginifica, no, attraverso, bello questo, eh, questo erano immaginificano che si vede di Reeves, no, tra il film e questo spin-off, cioè, per una volta, o meglio, per una volta, per una volta in tempi recenti, per essere precisi, si percepisce che è uno spin-off, ma allo stesso tempo non senti la, come dire, la scacioneria da spin-off. Cioè, dici, cavolo, che bello, sto vedendo, è come se stessi vedendo Batman 2 di Reeves, hai capito? Incentrato sul pinguino. E non senti questa differenza, sarà ovviamente anche per il fatto che, ovviamente, a livello di budget, ma poi anche a livello qualitativo, le serie sono schizzate negli ultimi 15 anni, per cui, però ragazzi, cioè, di più, per favore, perché è proprio bello. Cioè, è tutto bello, si percepisce l'ansia, si percepisce, l'unica, però è personalissima come punto, diciamo, negativo che io gli metto, non mi ricordo mai come si chiama, quindi abbiate pazienza, l'attrice, io purtroppo ho un problema con quell'attrice, non la sopporto, però nel senso è un mio problema, non è un problema dell'attrice, perché era convincentissima, però io non la sopporto. Ma è quella di Palm Springs, no? Christine Migliotti. Sì, sì, e lei, io ho un problema con lei, però è una roba estremamente personale, quindi... Non dovrebbe fare un personaggio simpatico, da quanto ho intuito. Quindi potresti odiarla, esatto, potrebbe essere ancora più... Ma poverina, ma poverina, sono quelle cose che sono proprio a pelle e io poi ci sto male anche quando le provo io, perché non ha fatto niente questa persona, perché mi sta così sulle palle? Non ha fatto nulla. Però è tutto bello, mi piace la color, mi piace il montaggio del trailer, lui bellissimo, mi piace quando racconta anche all'inizio e poi del sigaro, adesso senza... si può dire spoiler di un trailer? Non lo so, andatevelo a vedere. Si può parlare di tutto. Si può parlare di tutto, però bellissimo, bello, mi piace tutto, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora di vedere ed essendo Max qui arriverà ovviamente su Now, giusto? Eh, quella è una bellissima domanda, perché da quanto ho capito nel corso degli anni, se si tratta di una serie HBO, che quindi viene anche in America trasmessa sul canale, arriva su Now, 100% è già stato annunciato che esce in contemporanea su Sky e Now. Ok, perché a volte invece se è Max, lì potrebbero esserci dei guai. Tra l'altro, non so, ieri avete visto, mi immagino, l'annuncio che a maggio Max arriva in Europa, ma ovviamente non in Italia, perché fino all'anno prossimo hanno l'accordo con Sky. Però scusami, Michele, Michele, perdonami, quindi dovrebbe arrivare un'altra piattaforma ancora? No, arriva, non è che dovrebbe. Non aspettare, nel 2026 hanno detto che vorrebbero... Arriva il 21 maggio, se non sbaglio, in buona parte d'Europa, con ulteriore espansione qualche mese dopo, però in tutto il comunicato dell'Italia non si fa parola, perché sappiamo appunto che fino al 2025 il contratto è... Io qui sono dalla parte di Andros, che palla! Eh, non se ne può più adesso. Hanno detto comunque che per il 2026 vorrebbero, insomma, arrivarci. Cioè, io mi ricordo una dichiarazione che lencava una serie di paesi che dicevano dopo vorremmo espanderci anche lì e c'era l'Italia, mi ricordo. Sì, ma ovviamente in maniera più lungimirante per questa cosa qua. Eh no, ovvio, cioè... Se pensiamo a quanto abbiamo atteso per Peacemaker, speriamo non sia la stessa cosa. Team Vision, che culo. Team Vision. Ah, sì, sì. Io, io ce lo dico, io questa serie la vedrò in contemporanea con gli americani. Volerò in America, userò delle VPN. Direttamente lì. No, pagherò l'abbonamento usando magari una VPN in maniera molto regolare, perché non esiste che mi fanno aspettare ancora tanto, ma spero quelli di Michele che dovrebbero... Ma Michele ha detto che escono in contemporanea. No, però ha detto... Io l'annuncio non lo ricordo. Ha detto se non sbaglio adesso. Te lo cerco io, Mattia, te lo cerco io. Se c'è, mi rincuori. Non fosse così, ragazzi, mi sa che ve lo dico, ma in maniera molto legale, lo dico. Però, insomma, cercherò di... Perché è una figata, nel senso che il trailer mi ha proprio gasato. Ci ho rivisto Gotham, che è la cosa più importante. Ci ho visto proprio quella Gotham City che lui guarda attraverso la finestra, con il ponte, insomma. Non vedo l'ora, atmosfere ci sono. Cioè, lui è bravissimo con il farle senza senso. La qualità è altissima, come dice Andros. Sembra veramente Batman parte 2. Bellissimo il fatto che comunque inizi dicendo il nuovo capitolo della Batman saga, della The Batman saga. Solo quella scritta mi ha fatto dire, oh, bene, meraviglia. E quindi... Perché altro perché finalmente, sai cosa uomo? È finalmente dichiarato. Cioè, non è una cosa che noi lo sappiamo perché ce lo siamo detto tra di noi. No, è dichiarato, quindi benissimo. L'hanno proprio esplicitato anche per il pubblico. del tipo, guardate che se avete amato The Batman, vai, questo è il proseguio, è il ponte da qua al prossimo film, che arriverà purtroppo nel 2026. Forse assieme a Max. Arriverà Max in Italia e arriverà anche The Batman. Spostato di 365 giorni, tra l'altro quando mancavano 365 giorni praticamente. Quindi, evviva, cioè, saremo vecchissimi. Speriamo. Non mi ricordo quante puntate dovrebbero essere. Occo, non si sa. Otto? Otto. Ma bingiata o... Credo settimanale. Credo settimanale. Meglio, almeno abbiamo voto settimane un po' per... Ma il binge lo fa solo Netflix o Disney Plus quando vuole disfarsi di una merda, quindi... Adesso è cominciato anche Prime, attenzione. Con le cose folli perché, tipo, ne parlavo l'altro giorno parlando di X-Men, è uscito Sandland di Akira Toriyama il 20 marzo. Sette episodi tutti assieme e poi un episodio a settimana. Gli altri sei o sette. Gli altri sei. Che cazzo. Ok, va bene. Disney Plus. Sembra un'ottima idea. E Michele non l'hai trovato perché secondo me non ne hanno mai parlato. È un sogno. Ma io ho proprio questo flash... Il mio dubbio rimane perché ovviamente si fa confusione di nomi. HBO, HBO Max. Tendenzialmente, se il prodotto inizia con la scritta HBO e la musichettina... Arriva. Tipo House of the Dragon di cui parleremo dopo. È in contemporanea ma al mille per mille. Se sono originali per la piattaforma streaming, sono casini. Stiamo molto attenti. E il demo sia più la seconda che la prima. Secondo me non è HBO sta roba. È di Max. Ah no, sì, anche secondo me è Max. Original. Travatar. Ma allora, è un trailer che mi è piaciuto. L'unica mia, diciamo, riserva è che senza Batman sembra una generica, per quanto di ottima qualità, serie crime. Perché in effetti non ha nulla di diverso da una qualsiasi serie di scalata al potere di un gangster. Ok, è il pinguino, ma è un pinguino molto calato in un contesto pseudo-realistico e quindi alla fin fine sembra appunto una serie crime. Però dai, potrebbe essere quello che Gotham sarebbe dovuto essere e non è stata. Quindi, a meno che a un certo punto non arrivi un Joker che ride e dà la faccia in giro a tutti. Forse stavolta riusciamo ad avere qualcosa di più. Io avevo letto dei rumor che parlavano di introduzione di qualche personaggio, comunque che poi vedremo in The Batman, anche importante. Cioè quindi dei nomi da mitologia batmaniana, ora non so chi. Già c'è la figlia di Falcone. I rumor che avevo letto io parlavano addirittura di Clayface, però magari vanno dietro ai rumor che vogliono Clayface, quindi magari è poi tutta una puttanata. Però ci sono in attesa anche di questo, cioè di vedere un po' come si muoveranno nel mondo. Tolta la famosa vociferata apparizione del buon Pattinson, che è stato visto anche sul set. Io per un attimo ho pensato che il pinguino stesse parlando con lui. Se non fosse che poi nel finale del trailer... Ok, mi sa che non parlava con Pattinson. A meno che non sia un plot twist della The Batman saga, però a questo punto The Batman 2 sarebbe un po' particolare come film. Quindi, no, comunque scherzi a parte. Ripeto, è un buon trailer, l'atmosfera c'è, appunto il logo con il font ti ricollega a quell'universo. Spero non sia troppo preponderante, perché c'è il solito problema poi dell'andare a vedere qualcosa senza aver visto le serie. Poi si arriva a quello che è successo con The Marvels, con il bignami all'inizio. Però non devo ammettere, un po' mi incuriosisce, però non so se la vedrò, perché io sono abbastanza refrattario per natura alle cose cross-mediali. Ho fatto un'eccezione con Monarch e i miei testicoli mi stanno ancora facendo causa, quindi... Invece è proprio bella per me, però, vabbè. Vabbè, ma il tuo giudizio è... Non è riuscito a completare l'attacco. Esatto. Così. Beh, guarda, esattamente come Monarch, diceri le cose e poi non le completa, quindi... Allora, ho fatto proprio la faccia della presentazione. Ho fatto a chiudere. Se no avrei gettato l'amo alla chat, la chat deve concludere l'offessa nei miei confronti. La più bella vince un bacio da Michele. Tu devi imparare da me. Appena Paolo dice la prima sillaba, gli devi dire, sei un idiota. Eh, vedi, vedi. Cosa vedi? Vedi? Il tuo merito. Alla prima sillaba. Vi voglio tanto bene. Allora, il giudizio di Paolo contano quanto i truccioli, e chi ha visto Monarch sa. Trucioli di vero. È coperto. Io però la guarderei fossi in te, Travatan, perché mi sembra... Cioè, la qualità mi sembra esserci. Sì, per carità, non sembra male, però... C'è Reeves, insomma, sembra molto... Boh. E un domani sarà canonica nell'universo di Gun. Esatto, quindi... Qualcuno l'ha detto in chat, eh? Brave and the Bold, the third chapter of the Batman Saga. Allora, dicevamo anche nel gruppo, sì, sì, sì. Eh, ma dopo l'annuncio di Teen Titans, le mie speranze si sono affievolite. Io qui cito Debot, quello che ci ha scritto in privato. Gun è capace di dirti che The Batman 1 e The Penguin non sono canonici, The Batman 2 sì. Ti prego, Gun, fallo. Giusto per... È vero anche questo. È vero. Fai avverare la teoria di Debot, la voglio, grazie. Sì, ti dice che gli attori sono gli stessi, i personaggi sono diversi, ma potrebbero o non potrebbero condividere il passato di quelli che abbiamo visto. Esatto, esatto. E chiudo dicendo, guarda Andros, tu dici di odiare l'attrice, ma nessuno la odia quanto di sceneggiatori di Have I May Your Mother. Finale di merda. Vero. Ecco perché mi sta... Ah, vedi. Ora mi ricordo di... È lei. Canonicamente quest'anno muore, quindi il lore muore. È vero! Oddio! Minchia, secondo me questa qui va in giro con i cornetti, con le cose. Sono passati dieci anni con lo schifo di finale e ancora una frivellata di palle. Michele! Sono passati dieci anni dalla fine di Have I May Your Mother e io ancora mi chiedo come milioni di persone abbiano potuto passare nove stagioni a vedere con la merda. Detto questo, a me ne è bastata una stagione. Perché speravamo in un bel finale. Allora, io sono molto contento, è un teaser molto basic. Paradossalmente, pur essendo appunto mezzo teaser, mezzo featurette, faccio vedere un pochino più di ciccia, di sostanza, il primo filmato rilasciato. Però il concept di questo trailer, di questo teaser mi affascina tantissimo. Cioè l'idea appunto che si spazi via fin da subito l'idea che sia qualcosa di supereroistico. Poi magari ovviamente, come dicevamo prima, qualche elemento ci sarà, ci sarà, ci sarà un cameo di Batman stesso, ci sarà qualche nuovo personaggio da introdurre nella saga. Però il fatto che questo teaser abbia al centro fondamentalmente il monologo da criminale nostalgico di Cobblepot mi ha molto molto affascinato. Dice subito molto sul progetto, sarà più un crime noir che un action supereroistico, sarà una narrazione diversa da quella di The Batman che comunque aveva quella come matrice centrale. Io è un po' che non riguardo The Batman ora e in queste settimane tra l'altro a forza di parlarne e di sentire le vostre fesserie sulla canonicità mi è venuta molto voglia, mi è venuta molto voglia di rivederlo. L'altra sera lavoravo e mi sono messo la colonna sonora in cuffia e volevo picchiare chiunque mi capitasse tra le mani. Eri tu sul giornale. Zitto, zitto. Zitto. Guarda, queste ultime settimane, tra l'altro questi qui fanno tutti furbetti, Rose Villene, Rose Villene. Due settimane fa a Livorno è venuta clara, mi è toccato farle la diffida del tribunale perché non mi si staccava più di dosso. Quindi, eh, vedi. Vedi? Oggi non sono andato da Rose Villene, se no, insomma. Ci sono problemi. Ma io capisco i due problemi, io gli ho stessi problemi con Anna-Lisa, quindi ho... Ancora peggio. mi piace molto l'idea del gangster dice molto anche sul personaggio si percepiva già nel primo film però questa brama che il pinguino che non è ancora l'imperatore del crimine di Gotham aspira alla grandezza e quindi aspira a grandi gesti ha capito che all'indomani degli eventi di The Batman a terreno fertile e quindi si prospetta una bella saga crime dal punto di vista di un villain che insomma è un concept che mi piace mi piace tantissimo c'è Reels dietro e quindi che ve lo dico a fare io non ho grossi problemi con Chris De Migliotti sinceramente non mi sta io appunto ho visto solo una stagione di Ava Meteor Mother mi è bastata però per esempio in Palm Springs per me è molto molto brava al fianco di Andy Samper che tra l'altro piccolo gioiellino che ho trovato su Prime molto molto carino uscito sotto pandemia sono contento e ripeto era tanto che non vedevo The Batman e a rivedere anche in maniera così diretta in un campo in un quasi primo piano costante Colin Farrell truccato così mi sono ridetto ma quel cazzo ci sono arrivati a prenderlo per truccarlo così e renderlo perfetto guardate che io con l'infare gli voglio un bene dell'anima da quando lo vedi in Minority Reporter l'ho sempre seguito con i suoi alti e i suoi profondi bassi per l'amor di Dio e li voglio un sacco di bene però io mi ricordo che quando annunciarono il casting mi diceva ma come mai? ho detto vabbè faranno semplicemente un criminale che poi magari resta sfregiato e quando la prima volta che uscì la prima inquadratura si pensava fosse Gendolfini Rinato c'erano dei dubbi c'era chi non ci credeva ma va la figurata prendere un bello bravo attore ma anche un bello un sex symbol di Hollywood per trasformarlo così completamente ma non trasformarlo in maniera clamorosa della serie ah ecco il tizio strambo no per trasformarlo in una persona completamente diversa lo trovo geniale e la sua espressività funziona magnificamente quindi hype alle stelle proprio si mi devo proprio ricordare che è lui altrimenti non ci faccio tanto ma anche la voce io ora ho riguardato il tizio due volte in originale fa un grande lavoro anche sulla voce sull'accento ovviamente visto che lui è un accento molto forte è pazzesco veramente pazzesco Paolo allora per me è stato carino sono meno entusiasmato gasta di voi cioè nel senso The Batman mi è piaciuto perché nessuno ha detto idiota la prima sillava lo vedete no però no no però però ribadisco è stato un trailer carino mi piace questo aspetto crime noir del resto segue bene il fil rouge di The Batman di Matt Reeves però ancora non ho quel mamma mia fomento non vedo l'ora sicuramente Colin Farrell è bravissimo sicuramente può essere una serie capace di regalarci delle sorprese e di essere un ottimo prodotto però faccio l'esempio le poche foto che sono uscito di Joker 2 per dire mi hanno mandato invisibilio a differenza di questo che mi ha lasciato sì carino ho detto ma per dire il trailer di Alien Romulus mi ha colpito molto di più magari poi ne parleremo più tardi quindi la vedrò non mi interessa se in Italia uscisse anche mesi dopo non è una di quelle serie che dico non vedo l'ora però va bene sono un po' la fecora nera perdonatemi poi sarò il primo ad amarla però per ora voglio essere onesto Alex visto che l'uomo sei già sì 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 un po' maleducatamente maleducatamente sì 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 per una volta che lo faccio io to allora quindi innanzitutto in generale io non avevo questa grande voglia per forza di vedermi uno spin off sul pinguino con tutto che a me the batman è piaciuto un sacco la parte di errada alada con il pinguino secondo me è la parte un po' più debole quindi non ho proprio questi ricordi bellissimi legati lì però quando ho visto questo trailer ho detto oh ma ma sembra fatto bene poi sarebbe anche stupido da parte mia non dare una possibilità quando uscirà legalmente in Italia cioè lo devo vedere perché ho visto Gotham vuoi che non veda la versione migliore del pinguino cioè io ho visto il pinguino che scala il potere in Gotham e ancora ci penso ed è terribile qui I'm the king of Gotham I'm the king of Gotham sì 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 bellissimo è avvincente invece qui sembra fatto invece da persone adulte che sapono effettivamente scrivere e quindi dico allora sì allora sì guarda se ha solamente metà della qualità del film principale è già una gran serie e soprattutto non è una serie Disney quindi sono sicuro che non si sputtanerà tutto all'ultimo quindi ho buone speranze ce l'ha mandata io comincio a toccarmi comunque perché qui voi salvatevi queste parole che possono tornare utili poi un cameo di Superman alla fine me l'aspetto comunque io all'epoca avevo montato il pinguino di Gotham che urla I'm the king of Gotham con sotto Giovanni e Giacomo che fanno terun 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 ce l'ho fatta a ricordarmi chi fosse del trio a dirlo ma vedi la lungimiranza di cui parlavo prima con How I Met Your Mother l'ho avuta anche con Gotham ho visto il piloto ho fatto no eh ma perché guidava male era un pilota ecco sì sei stato molto previdente io invece ci ho creduto e sono arrivato fino al termine della prima stagione tra crash indicibile poi era la terza della seconda stagione ho detto basta e devo dire che la mia vita è migliorata a me è bastato il finale cioè io comunque fino all'episodio finale della prima stagione ho detto va bene non era quello che volevo però magari posso divertirmici no ma il finale con tutte quelle scene Fish Mooney il flash forward in avanti cioè di tutto ho detto no no basta ma ragazzi ma voi vi siete persi Gordon che fa scappare Falcone Falcone è diventato Falcone Furious è il rispetto per il criminale voi dovevate arrivare alla fine della seconda stagione lì c'è l'attore che fa Henry V che interpreta il dottor Hugo Strange e come il tuo assicurdo fa merda col DNA creando dei mostri mutanti da dei criminali morti voi non avete idea di cosa vi siete persi perché lui col DNA fa solo danni eh sì 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 ma signor F ma io potrei anche ripetere tutto quello che è già stato detto lo sapete ho amato The Batman questa serie era un po' eh diciamo il continuo di quello che avevamo visto al cinema di del fatto che eh noi dopo aver visto The Batman io mi ricordo che stavo piangendo eh piango ancora adesso ogni volta che lo vedo eh è fantastico e quindi vediamo di nuovo Colin Farrell vediamo la serie che sarà mh prequel e sequel quindi sia dopo l'inondazione ma anche prima già vedere Oswald che ci parla di questo eh gangster il richiamo anche al sigaro ehm c'è Matt Reeves di mezzo anzi proprio lui che l'ha plasmata questa serie eh solo a vederla la qualità sembra esserci tutta ok diviso a metà nel senso forse in alcuni momenti la filosofia di Paolo nel senso voglio vedere questa serie è grounded ci sono accenni di follia di violenza è proprio bella gangster crime è tutto quello che riescono a fare con Batman il grounded basta vedete vedete che problemi vedete che problemi ci sono quando tu hai le alternative perché a seconda di quello che vuoi nel periodo vieni scisso irrimediabilmente se io mi ero convinto che questa ennesima trasposizione di The Batman fosse e dovesse restare grounded per tutta la sua durata adesso essendo che deve arrivare un Batman un po' più fumettoso penso che bello spero di amare entrambi però allo stesso tempo è bello è grounded ma forse ancora l'ultra realistico non lo so e quindi c'è quella cosa del no assolutamente non è che tu potevi distaccarti ci mancherebbe altro però c'è quella cosa che mi fa dire ho hype ma non non ho quell'hype del voglio vederla domani un anno fa invece mi colpì molto di più pensare ah la serie sul pimbino sta arrivando che bello non vedo l'ora stavolta vedo il trailer dico hype misurato poi ovviamente ripeto non stiamo parlando delle serie marvel disney plus stiamo parlando di un tizio che sa scrivere che sa mettere in scena dal punto di vista tecnico io sinceramente la continuità con il film ce la vedo tutta cioè quindi anche lì vediamo questo nuovo max che arriverà però c'ho sempre quella cosa del ok è un hype un po' tiepidino non è pensare di esplodere un po' di più non lo so comunque è un teaser che vuole essere volevo dare il latte volevo dare il latte volevo dire si vede che leggete pochi fumetti perché tutti i migliori spin off di batman sono quelli grandi proprio no ma c'è vero c'è vero di alcuni li vedi dici ok la trama sarà x y z sai già l'inizio e la fine qua comunque ti lascia molto mistero molto l'idea per quanto poi immaginiamo che lo ritroveremo veramente re del crimine poi no in the batman 2 perché l'abbiamo detto se è rives intelligente può anche darti non guardarla per forza ma i due film te li puoi godere quindi no io l'unica cosa è che ma è la mia solita preoccupazione io spero non sia troppo un film allungato un pochino secondo me potrebbe esserlo perché credo che voglia essere quel tipo di mini serie che vuole raccontare quasi del tipo ci avrei fatto anche un film se avessi potuto ma mi hanno detto scrivi una serie quindi abbiamo fatto la serie speriamo che in quel caso sia comunque gestita bene cioè con i giusti tempi e cliffhanger quando servono e non no la parte iniziale interessante gran finale è in mezzo una serie di chiacchiare scusate mi piace molto l'impostazione cinematografica però speriamo sì non ci sia una parte centrale moscia è quello capito cioè io voglio che se ogni episodio c'ha pure anche il cliffhanger ogni episodio ogni episodio mi dice ok voglio che vedi il prossimo perché quella roba lì un po' manca lo vedo perché so che lo devo vedere invece vorrei vederlo perché cavolo voglio capire però non si vive di soli cliffhanger cioè le serie tv sono belle anche semplicemente perché c'è una relazione di erro però sai io non me li aspetto le puntate cliffhanger da Reeves visto l'approccio no beh ma poi c'è cliffhanger e cliffhanger però solitamente quelle senza cliffhanger sono più le puntate delle serie lunghe poi dipende che cosa intendiamo abbiamo passato un'intera puntata a dire ma cliffhanger cos'è così non è una roba così allora non voglio una follia cioè non chiedo non chiedo Jean Grey capito che bussa la porta di X-Men che dice c'è una nuova Jean Grey allora oh mio Dio mio Dio però capito una situazione che mi fa dire ok voglio vedere cosa succede che comunque ti sarà una guerra tra vari criminali c'è il personaggio di Dio qui a Falcone c'è la Gotham mezza lagata sulla cassa infatti infatti quindi dovrebbe quello abbiamo visto un paio di momenti legati ad Arkham cioè quello che quello che inizia ad avere è infatti lui che va a visitare qualcuno in prigione infatti il colloquio se non erro quello dovrebbe essere Maroni comunque avevano castato i nomi tipici della criminalità di Gotham per dire no per rispondere velocemente a Filippo poi ti lascio parlare Mattia è chiaro no l'hai riconosciuto anche te la matrice è quella del primo film e quindi non ci si poteva pensare Batman e Robin di Schumacher no però per capire a me piace questo trailer proprio anche perché va in sottrazione cioè appendi a me la cosa che più mi ha affascinato di questo teaser è il fatto che lui citi il sigaro del gangster morto che la prima cosa che mi ha fatto pensare pensa che questo qui sta sempre col sigaro in bocca perché spera di diventare così nel primo film quindi io mi aspetto uno studio di personaggio una lotta per il potere che è tutto quello che lo spettatore medio del cinecomic contemporaneo non si aspetterebbe da una serie tv supereroistica è per quello che io mi esalto per queste cose che poi magari piuttosto che di dumbecilli e ballano un bianco e nero su un tetto come piace io me li tengo stretti te tieniti sei un pochino più così per te dai ma sì io ero il primo alla vigilia di The Batman a non volere un'altra interpretazione utilizzo il termine semplice se no ci perdiamo realistica però il film mi ha fatto innamorare e mi è bastato rivedere quel dannato ponte per risentirmi a casa avere voglia di approfondire ulteriormente tutti i frangenti narrativi mi dispiace prospettare un Batman di Reeves sempre più sacrificato a favore dell'incertezza del dubbio di quello che ci deve proporre Gun io qui vedo della solidità e ovviamente un teaser che non si sbilancia per nulla io mi ricordo degli attori scelti in determinati ruoli ma altrimenti uno spettatore occasionale non sa chi si avvicenda sullo schermo però ci fa capire che sarà un prodotto introspettivo che ci vuole far comprendere meglio la psicologia del personaggio e certo sarà una serie crime dura e pura io non so veramente se vedremo altri cattivi ma forse non li vorrei neppure quello c'è il film questo è uno spin off di un personaggio singolo che vive in una specifica realtà beh magari ti mostrano due cattivi prima di diventarlo magari appunto ok però ma proprio è la struttura da marvel quella attenzione che in questa puntata c'è quello che poi diventa lo spaventapasseri eh si chi se ne frega io voglio il pinguino voglio appassionarmi a quella vicenda però ricordiamoci anche l'int finale sul Joker di The Batman quindi sì che però doveva essere presente ben di più certamente certamente sì sì qualcosa ci può essere poi se ben contestualizzato mi faccio andare bene qualsiasi cosa però io voglio voglio il crime come sempre di Falcone dura magari poi la rivediamo nel film quindi potrebbe essere anche una sua introduzione certo certo l'unica inquadratura che non mi ha fatto impazzire quando si vede lei di profilo che urla sembra veramente l'inquadratura cioè non che sia brutta ma sembra veramente l'inquadratura messa lì per dire eh visto questa è la serie drammatica dove i personaggi soffrono sì perché siamo bovesse a caso questa urla ci sarà un motivo probabilmente poi nella serie diciamo ah ok però vedendola nel trailer mi è sembrata un po' così e vabbè la fortuna del Batman di Reeves ci punta per dare un attimo acqua al mulino di Filippo è vero come dice Michele che le storie grounded di Batman spesso sono affascinanti ma penso anche solo ad anno 1 però lì l'idea prendi un media che notoriamente è colorato esagerato fantasy fantascientifico e lo rendi grounded appunto lo abbassi in live action appunto può sembrare una serie gangster bella ma una serie gangster punto secondo me non mi sembra che la trilogia del cavaliere oscuro ci siano i raggi laser queste cose sì c'è qualche minchiata in più magari di The Batman ma tutta molto contestualizzata cioè a me sembra che negli ultimi vent'anni il Batman che è stato sdoganato da Nolan prima e da Reeves poi lascio stare quello che c'è stato nel mezzo sia quello grounded quello che fa il giustiziere cittadino che combatte i criminali poi sì nel terzo Batman e nel primo c'è la droga di Ra's al Ghul c'è qui c'è Bane eccetera eccetera però è grounded io non so perché perché in chat è già partita la fantasia magari c'è Mr. Sass ma non possiamo avere otto puntate sul pinguino che ci parlano della sua scalata al crimine dove fronteggia la figlia di Falcone che probabilmente arriverà per reclamare l'eredità del padre e nel frattempo magari c'è Maroni che dal carcere dirige altri scagnozzi non può essere questo e che male c'è tanto poi ci sarà Gun con il suo mondo anche giustamente fumettoso colorato però secondo me Mattia questa cosa qua è figlia buttava un sacco di gente aveva sempre senso però era pieno di roba è tutto vero però ti dico questa cosa qui è figlia della cultura degli Avengers un po' nel senso che ormai ci si aspetta che se una cosa è grande se ci buttiamo dentro diciamo più persone è l'easter egg che fa il film poi l'easter egg designata ce l'abbiamo già in una puntata ci sarà Pattinson dai ma poi ho intravisto male io c'è un'auto che arriva e c'è la V sulla targa io ho pensato a Wayne ma forse probabilmente non l'ho guardato a me pare ci sia un'inquadratura di un'automobile abbastanza lussuosa e mi sembra ci sia la V ma siccome nessuno di voi ne ha parlato mi sono detto forse me la sono sognata l'ho visto una volta sola al trailer quindi comunque è come dice Andros sembrava il logo della Maserati ok io da ignorante non è una V perfetto vedete sono laggiato mentalmente no dicevo è come dice Andros ormai non c'è la possibilità di godersi una storia in quanto bella bisogna scoprire prima quale assurdo personaggio della mitologia fumettistica o letteraria apparirà in quale puntata dando un senso a tutto infatti la narrazione degli ultimi anni ci dice che è stato un po' il punto morto della questione sì poi a maggior ragione se si festeggia tra virgolette per il ribadire la separazione di questa linea narrativa rispetto a quella di Gunn a maggior ragione va distinta nettamente e quindi come ho sempre detto il primo film ha avuto successo sì non aspettatevi che nel secondo ci siano gli alieni saranno sempre thriller investigativi certo a sfondo criminale con i vari personaggi tipici reinterpretati ad hoc nel bene e nel male magari arriva il secondo film e ci siamo rotti le palle di sto stile può capitare anche secondo me no però sarà il pubblico a rispondere perché effettivamente si faranno concorrenze interna esatto dicono c'è Mephisto proprio lui lui è il cattivo finale degli alieni non è andata bene come quando ha combattuto i criminali di strada verissimo ma lì era per colpa di come era stata introdotta la cosa non guardo i dettagli guardo i concetti alieni non devono essere per forza alieni dai magari dei personaggi però ho capito il concetto Mike fai conto che nei videogiochi tipo Batman ha affrontato una pianta carnivora gigante un Joker che sembrava Hulk e funzionava lo stesso cioè quindi poi dipende sempre da chi te lo porta chiaramente verissimo va bene va bene abbiamo parlato di un Batman realistico e c'è il fantasy realistico vi lascio parlare voi che non ho mai visto niente quindi vi ascolto bravo Paolo aspettate che il banner su due linee mi dà fastidio quindi fatemi sacrificare delle parole sempre che la tastiera vada in questo momento topico ce la facciamo ce la facciamo bene quindi c'è stata la generata di marketing perché effettivamente i trailer sono due rispettivamente dedicati alle due fazioni che si scontreranno carina come cosa tra l'altro c'è un trailer che ha più visualizzazioni rispetto all'altro ci comprendiamo anche come si divide il pubblico se hanno capito se hanno capito il marketing perché magari poi ah sì infatti c'è chi ne ha visto solo uno vero Alex? io ho recuperato mentre parlavate non vi ho ascoltato per niente bene però belli dai ti sono piaciuti Andros ma sì dai allora ti dirò io non è che sia un fan particolare di House of the Dragon la prima stagione l'ho guardata mezzo mal sopportandola ti dirò la verità non è non è non è proprio rientrata nei miei gusti cioè io perché a me è piaciuto tantissimo Game of Thrones tantissimissimissimo noi abbiamo parlato allo sfinimento anche qua su facce di nerd nonostante le ultime stagioni insomma siano molto più deludenti rispetto sto andando leggero eh molto più deludenti rispetto all'inizio a metà svolgimento insomma di Game of Thrones House of the Dragon secondo me non riesce cioè io con House of the Dragon ho sempre avuto la sensazione del sì ok capisco che sto guardando il passato di quello che ho guardato prima però porca miseria sti personaggi io non veramente io non ho letto la parte dei libri da cui è tratta House of the Dragon io non so se siano scritti così o se gli attori insomma ecco perfetto perché allora in realtà è una cosa un po' particolare perché il libro da cui è tratta la serie è una sorta di saggio storico fittizio ok è come se fosse scritto da un maestro per dire esatto sì la sto mettendo giù molto non incazzate vinciate la sto mettendo giù mi sono incazzato io è il resoconto di un maestro della cittadella che ti narra questa che nel mondo narrativo è una storia accaduta veramente quindi non è solo una cronologia ma è proprio narrata sì però per darti l'idea che sia appunto un libro di storia anche un po' rattoppato per quanto riguarda alcuni eventi chi scrive non sa perché siano andati in quel modo a volte ci sono delle teorie ad esempio già la prima stagione si è sbilanciata su cose che nello scritto sono dei piccoli misteri sì solo che per farvi vedere tutto si sbilanciano e quindi non ti posso neanche dire se i personaggi siano fedeli o meno perché ti vengono raccontati voglio dire qual è nei libri di storia la caratterizzazione di Napoleone tu sai quello che fa può intuire però non a caso arriva il film di Ridley Scott che ti dice nel privato Napoleone era così suscitando le ire di miriadi di fan di Napoleone che ho scoperto e di istere nel 2024 anche perché poi ti danno cioè il libro di storia poi può magari aggrapparsi ma per Napoleone magari no lettere trovate cose con il fantasy se non è l'autore tra virgolette a darti proprio delle informazioni extra quello c'è non è che puoi inventarti hanno ritrovato una lettera mi faccio un esempio tanto la prima stagione l'avete vista tutti o nel caso se non l'avete recuperata finora è comunque una sottotrama minore il marito di Rhaenyra nel libro viene ucciso da Daemon Targaryen lo dice chiaramente Daemon arriva e lo ammazza perché vuole stare con lei nella serie ti dicono no non ha ammazzato lui ha messo lì un cadavere e l'ha fatto emigrare adesso l'ha salvato l'ha fatto andare via con il suo amante questo è un cambiamento si si cambia tutto certo per renderteli più piacevoli perché sono tutti degli stronzi no non che migliori tanto il quadro no secondo me poi vabbè sarà anche che io personalmente lei non l'ho apprezzata molto vi dirò la verità nella prima stagione non riesce sarà personalissimo magari tantissimi di voi hanno apprezzato tantissime interpretazioni io sinceramente no non molto l'unico che nella prima stagione avevo apprezzato era il vecchio lo chiamerò il vecchio che poi nel frattempo era zombie poi diventavano due facce no esatto si si esatto cioè l'unico che ho apprezzato un pochino interpretativo ma poi per il resto nulla di che questi due trailer beh quello che quello che mi comunicano perlomeno è di continuare su che vogliono continuare su quella linea cioè non vedo delle modifiche sostanziali io personalmente vedo un come prima più di prima stronzi qua stronzi là cioè questo è quello che vedo non vedo nient'altro quindi mi aspetto una seconda stagione diciamo in linea più o meno con la prima non so effettivamente cioè credo ci puntino molto da lì a realizzare anche i due trailer ovviamente ci puntino moltissimo ora non ricordo però ricordatemi voi eh esatto il ricordatemi voi la prima stagione di House of the Dragon che ormai c'ha qualche annetto perché quando è uscito due o tre anni fa non mi ricordo più quasi due per settembre 2022 nel 22 nel 22 ecco come era andata io mi immagino un inizio incredibile perché ovviamente c'era la cosa di Game of Thrones ma come è andato l'andamento un successo inaudito clamoroso anche fino alla fine sì 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 anzi migliorava di settimana in settimana perché ricordiamoci che si partiva dalla diffidenza generata dalle ultime stagioni quindi anche su internet era pieno di utenti no io non la guardo me ne frega più niente ha fatto il botto assoluto infatti secondo me si vede che hanno alzato il budget perché almeno così hanno giudicato da questi due trade sembra molto più ricca la serie ma qualcun altro di voi ha avuto il mio stesso problema di un addormentamento lento verso le ultime puntate a me non è piaciuta io l'ho detto chiaramente all'epoca a me non è piaciuta per nulla ero troppo arrabbiato per dormire io ora la recupererò Andros perché comunque insomma mi sono dedicato tanti anni alla visione di Game of Thrones ho letto tutti i libri Ivi inclusi quello da cui è tratto sta roba qua però io la terza puntata sinceramente io ero già scettico all'inizio perché comunque quel librone di cui parlava Mattia prima all'inizio è anche intrigante poi alla sedicesima volta in cui il cugino avvelena l'abbacchio della sorella del fratello mi sono un po' rotto i coglioni sinceramente perché poi è tutto uguale ma sai cos'è Michele il problema è il paradosso che potrebbe anche essere tutto uguale il problema è che secondo me ovviamente se ci fosse stata un po' più di grinta nell'interpretazione anche io infatti stavo per dirti che per me il problema della serie sono i personaggi che sono tutti o clamorosamente esagerati o monoespressivi incredibilmente in colore per dire appunto soprattutto le due protagoniste femminili tra l'altro la Cook io la adoro da Ready Player One però proprio c'hanno dei personaggi che sembrano col pilota automatico all'opposto c'hai Matt Smith che pare satana sceso in terra Considine che sembra boh il cugino di satana nel senso è molto smilibrato infatti quello che non mi ha portato a finire settimana dopo settimana che proprio non me ne fregava niente dei personaggi poi tecnicamente ineccepibile il valore produttivo altissimo per l'amor di Dio però non mi basta sinceramente faticavo molto a starci dietro sì 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 non proprio non è io ripeto in questi due trailer io vedo una continuazione di questo cioè non vedo delle modifiche delle modifiche sostanziali cioè se mi avessero detto guarda l'hanno registrata il giorno dopo perlomeno delle scene che ci sono nel trailer io ci avrei anche creduto che da un certo punto di vista è un pregio perché non si vede il passare di due anni tra una stagione e l'altra però allo stesso tempo mi sembra perlomeno da questi trailer portarsi dietro anche gli stessi gli stessi pregi ma anche gli stessi difetti quindi probabilmente poi ripeto sicuramente quando è che hanno detto che esce non mi ricordo più a giugno 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 sì o 16 o 17 non mi ricordo a giugno quella sicuro arriva su now perché come la prima sì sì quindi siamo sicurissimi e lì poi ripeto ci riaggiorneremo a giugno perché sicuramente la guarderemo e la guarderò anch'io appena uscirà sono curioso però ripeto è una curiosità tiepida non ho quella frenesia che avevo per le ultime stagioni di Game of Thrones al netto di di tutti gli alti e i bassi ma soprattutto bassi di scrittura delle delle ultime stagioni di Game of Thrones cioè io vi ricordo soltanto anche qua a Milano cioè per Game of Thrones gente ti ricordi Mattia avevano fatto al castello sforzesco avevano messo il mega schermo per andare a vedere la puntata insomma era veramente un eventone non credo che per questa però aspettiamo a dirlo in Italia però abbiamo dei dati dell'Italia su come è andata questa cosa perché all'estero già me lo vedo di più ma in Italia cioè perché a parlarne su internet le dirette andavano da dio adesso magari in quel periodo che eri un attimo distaccato però è stato un bocco io chiedo sai perché te lo chiedo perché questa serie qua nello specifico un po' come tante altre serie è un po' come il fenomeno Berlusconi nessuno lo votava mai però vinceva quando parlo di questa serie tutti mi dicono mi fa schifo mi fa schifo mi fa schifo però poi dopo io come al solito ero il nemico pubblico numero uno adesso non rievoco dirette anche abbastanza spiacevoli che sono proprio successe cercando di parlare delle puntate con cognizione di causa molto spiacevoli adesso a quanto pare non è piaciuta a nessuno guarda Andros sei sempre particolare come fenomeno posso darti un dato che non è italiano ma penso sia indicativo la prima stagione di House of the Dragon è il titolo HBO più visto di sempre in America Latina Europa Sud-Est Asiatico Hong Kong e Taiwan e beh allora tutto il cazzo di mondo si posso specificare una cosa prima di andare avanti effettivamente mi ero perso il commento ci sta Matti Oschi non è il tuo genere guarda io ho letto tutti i romanzi compresi gli spin-off parlavo di Game of Thrones quando ancora non se la cagava nessuno abbiamo fatto rubriche analisi teorie l'abbiamo sviscerata in lungo e largo non è per questo che non mi piace House of the Dragon secondo me è scritta male dopo ne parleremo posso approfondire la questione ma santo cielo tra l'altro Matti Oschi rinomato hater del fantasy infatti il signore degli anelli Harry Potter gli stanno sui coglioni gli anelli del potere l'ha strontato l'ha strontato sì vabbè poi questo ovviamente è un fantasy più si dice green dark così gli esperti lo intendono sì però io sono qua che aspetto il dannato sesto libro di Zio Martin che non arriverà mai che ha scritto il commento se una persona non mi conosce si può anche non apprezzare qualcosa di cui si è appassionati vedasi stanno l'altro giorno quando ho visto la presentazione della nostra c'è l'ho fatto pensa ganso se a giugno subito dove è uscita la serie pum a sorpresa ho finito il sesto e il settimo ho detto ma quello è un uomo di merda tanto non lo finirà ma va per me non li sta neanche più scrivendo per me ha scritto tre pagine agli appunti cosa succederà e quando muore lo fa scrivere a qualcuno ma in teoria neanche fuoco e sangue è finito ma che cazzo gliene frega non sono finiti i racconti di Dunk e Egg non è finito niente vado a cagare vabbè Michele non mi sembri molto come libro è completo no no aspetta la parentesi raccontata nella serie e si parlo del libro guarda ti spiego a secondo volume che non arriva ma non è auso praticamente prima che uscisse questo è uscita una specie di Vignami Silmarillion di tutto Westeros un volume di grosso formato inciclopedico esatto illustrato che però segue più o meno la storia di tutte le casate di Westeros e oltre le religioni bla 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 poi ha scritto questo dichiarando che era il primo di due libri qui si arriva fino a un certo punto e il secondo dovrebbe concludere fino alla caduta per mano di Robert Baratio però volevo spiegare a Travatar che la vicenda specifica raccontata nella serie è chiusa e conclusa sappiamo come va a finire quindi la serie è un pezzo di un libro più grosso sì il libro è la storia di tutte le dinastie Targaryen ah ok quindi questa aveva preso un pezzo loro si sono concentrati su un momento particolare la danza dei draghi la danza dei draghi esatto la danza dei draghi che verrà coperta nelle previste quattro stagioni di questa serie tv quindi il materiale per fare la serie ce l'hanno tutto ma non ha fatto il secondo se tu ci fai caso Alex non ci sono i semi di drago ad esempio in questo trailer io vi invidio ragazzi perché sinceramente ripeto è talmente schematico e ripetitivo l'andamento della narrazione di Fire and Blood che a un certo punto io non ce l'ho più fatta a seguirlo poi ovviamente voi vi siete anche un po' rinfrescati a memoria guardando la serie tutta e magari appunto nei prossimi due mesi me la riguardo anch'io e qualcosa mi torna in mente però io proprio sarà anche un po' per la questione non finirà mai la saga principale vai a fare in culo tu e i tuoi spin off prequel sequel trap e zap un po' perché appunto la qualità è stata quella io sono un po' respinto da questa roba qua sia quella cartacea che appunto dopo un po' ho trovato ripetitiva che in quella seriale beh i trailer sono belli non si può dire niente probabilmente quello dei Verdi è più impostato alla narrazione perché dovrebbero essere quelli buoni quelli più diplomatici quelli un attimino insomma i Verdi sono gli stronzi assoluti per commentare la prima stagione però di là c'è il figlio di Satana Matt Smith ovviamente eh ma è figo ma là ci sono i figli di Satana di lei così perché sono tutti dei pezzi di merda quindi è una cattiveria relativa è chiaro che quello dei neri è più impostato all'action al badass e quell'altro un pochino più alla costruzione delle dinamiche anche di potere sono due bei trailer ripeto secondo me si nota anche un credo confermato aumento di budget visto il grande successo della prima stagione niente da dire ripeto però per me puoi fare una serie tv con 150 draghi a puntata le morti più violente della storia della tv però se sono tutti fantocci di cui non mi interessa niente cioè io che mi fermi a una serie evento al terzo episodio della serie vabbè poi la guardo vuol dire che proprio non mi ha preso e io sono uno che appena Sky ha iniziato a farlo tutte le domeniche notte alle tre sveglia e guardavo Game of Thrones in contemporanea cioè c'avevo un hype smisurato e anch'io come Mattia io avevo letto i tre romanzi di Martin prima che uscissero che uscisse la prima stagione di Game of Thrones quindi fin dall'inizio quando non se la cagava nessuno era un mega fan di Game of Thrones poi che te lo dico a fare fantasy HBO Sean Bean bla 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 io l'ho visto in anteprima la prima puntata al cinema a Milano quando c'era ancora il Telefilm Festival la presentarono lì ah me lo ricordo quell'evento me lo ricordo sì me lo ricordo benissimo cioè quindi io sono un fan della prima ora di Westeros di quell'infame di Martin degli adattamenti televisivi però proprio io questa serie non ho trovato un equilibrio nella narrazione soprattutto nel trattamento dei personaggi ripeto essendo un membro di faccia di nerd in quanto tale c'ho lì la Steelbook pagata 9,90 euro in 4k da Media World quando te la tiravano nello zigomo la guardo da qui a giugno per cercare di risalire a bordo io sono sempre propositivo per riscoprire le cose però se va avanti così fino alla fine della prima stagione farò fatica sicuramente Paolo io no io zero proprio non ho mai visto che gli adattamenti non mi interessa quindi gli adattamenti io come Paolo io e Paolino c'è una discussione credo un po' monodirezionale Victor aveva detto che ci sarebbe stato a lui è piaciuto è vero è vero è vero quando ne avete parlato in privato anche se non sbaglio anche a livello di CGI tu l'avevi trovata un po' così magari adesso lo dici addirittura ha detto no io la trovo buona quindi proprio io non l'ho visto infatti non voglio vederli perché voglio vivere in questo limbo di trailer bello o non bello quindi Alex ci dica allora innanzitutto complimenti per la campagna marketing che è un po' la civil war tu da che parte stai no? come se ci fosse da scegliere in mezzo a questi stronzi però va bene posto che non c'è da scegliere neanche nella civil war tra l'altro e comunque prima ma lì perché c'è una parte da scegliere qui effettivamente qui invece da quello che ho capito è un sì sì qui dove vai vai sempre la merda dipende da chi parli perché in realtà per molti i neri sono buoni gli altri sono cattini sì ma i neri qui anche io tifo più per loro a livello inconscio perché te le hanno sempre fatti vedere un po' come la vittima no Rhaenyra era la prima poi è arrivata sta stronza di Alison e quindi come fai a non tifare alcuni tipono per i verdi a parte che io Millie Alcock no come si chiama no Millie scusa Olivia Cucca non so perché Olivia Cucca non riesco più a prenderla sul serio perché penso alla scena dei piedi della scorsa stagione quindi l'unica roba che ho visto è quella perché dovevo un attimo capire che cazzo mi hai ricordato me l'ero dimenticato perché io quando ho visto quella scena lì mamma mi ho detto ma dove cazzo ma che ma era necessario ma c'è nel libro no e allora che cazzo mi piace lo storico sapere che quello lì chiede di vedere i piedi è la tizia mi piace come lo descriveva tipo letteralmente magari fungo il nano di corte che ogni tanto dice puttanal che ogni tanto viene riportato però Martin ha avuto il buon gusto di non mettere questa roba qui meno male grazie Martin allora ho visto i due trailer mai avrei pensato che tra le due serie avrei atteso di più gli anelli del potere non so come è successa questa cosa qui ho detto wow che a me gli anelli del potere non è che sia piaciuta tantissimo ma ho capito come prenderla invece house of dragon mi ha fatto proprio arrabbiare questi due trailer cioè quello dei verdi che è noioso perché è una roba la guerra è quello dei neri ancora ancora dici c'è della rabbia c'è della grinta robe varie se non fosse che poi c'è il personaggio di Renis che si azzarda a dire questa frase è una cosa del tipo quando la rabbia la voglia di distruggere tutto avrà la meglio sulla ragione allora ci dimenticheremo del perché stiamo combattendo è colpa tua sei iniziata questa guerra perché nella penultima puntata potevi dargli fuoco a tutti e non l'hai fatto e ti permetti di fare la morale ma vaffanculo come ti permetti infatti per me è bruttissimo il fatto di ricordare di rimembrare tutte queste cose no io mi ricordo bene perché quando ho visto quella scena lì della penultima puntata con il drago a due pass a due centimetri dai nemici e lei va via e basta io ho detto quella è uscita è proprio una scena originale dell'ottava stagione di Game of Thrones sì sì non sei l'unica vi ricordate l'incredibile battaglia contro il Nutrigranchi il Nutrigranchi minchia quando c'è il cavaliere di Ravira è tremendo prende a testate il tizio sul tavolo e lo ammazza e nessuno dice niente vabbè una bella serie comunque niente quindi allora ovviamente lo guarderò perché sarei un bugiardo a dire che per curiosità non mi metto lì a guardarlo eccetera eccetera però non mi aspetto niente di che a me sembra proprio il livello almeno visivo e registico per quanto un trailer possa farti capire la regia mi sembra tale quale alla serie precedente io vivo io vivo io voglio vedere questa serie solo per due cose sangue e formaggio anche se secondo me anche questa scena la renderanno una merda perché tanto io so già come faranno poi te lo dirò in privato grazie e poi quando arriverà il drago ladro di pecore perché è il ladro più fico dell'universo basta poi quando vedrò queste due cose sarò pienamente soddisfatto e quindi vediamo quel che ci capita e basta signor F io vi dirò anch'io voglio lodare la campagna marketing alla fine i trailer mi sono piaciuti nel senso sai c'è l'epicità stanno cercando un po' di di rendere tutto ancora più più piccante il problema è che il problema è che io rivedo poi quei personaggi ripenso a quando abbiamo visto la prima stagione avete già rivangato bellissimi ricordi vi ringrazio quindi anche qui non ho hype la guarderò vedremo dove andranno a parare anche perché io non conoscendo ben i libri ce li ho là dietro ma ancora non ho letto niente voglio vedere un po' sapere un po' di più su questa storia io all'epoca recuperai Game of Thrones poco prima dell'arrivo di House of the Dragon quindi è stato bello poi rivedere di nuovo Westeros però molto più indietro rispetto cioè cronologicamente alcune cose si sono legate poi ho capito che ci sono anche delle differenze in realtà tra quello che che scrive Martin e quello che ci hanno fatto vedere vediamo non lo so boh da un lato dovrei non lo so non riesco perché poi io mi ricordo cosa si diceva prima dell'arrivo della prima stagione tutti quelli che erano bruciati dall'ottava stagione di Gott avevano una paura tremenda perfino la Warner aveva una paura tremenda a lanciare questa serie dopo l'arrivo di questa serie molti poi vabbè è una cosa soggettiva ci mancherebbe hanno fatto pace con Westeros e con quello che insomma era stata l'ottava stagione di Game of Thrones io che l'avevo fresca 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 io non riesco a capire come in che modo si sia riuscito a fare pace perché ho trovato tutti gli stilemi problemi ma della settima stagione di Game of Thrones perché infatti comincia il declino da lì fino a passare poi per l'ottava e non riesco a capire come si sia riusciti a dimenticare a fare tabula rasa e ad esaltarsi così tanto voi ne avete citata una di scena dove boh non lo so mi ricordava il voler stupire a livello visivo più che da un punto di vista della plausibilità cioè se ti trovi lì col drago che fai gli fai l'occhiolino e te ne vai va bene ok ricordiamoci sempre la battaglia con Nutri Granchi che rimangono lì in teoria anni non ricordo se nella serie fossero diventati mesi ma all'improvviso arriva qualcuno e dice ma se utilizzassimo i draghi ah si si ma poi c'è una gestione temporale che è pessima cioè non si capisce perché anche lì io ci sono arrivato dopo che era passato un sacco di tempo anche perché tutti gli attori sono uguali altri crescono qualcuno ogni tanto invecchia ma buh è stato un po' lì di confusione e per chiudere l'intervento ma perché questa è una cosa che si vede che è proprio di cuore per favore Game of Thrones è una cosa la settima l'ottava è un salto di dragon è completamente tutto perché sennò poi io ero scettico su Game of Thrones ma dopo averla vista anche a distanza di anni perché vedere battaglie come quella delle acque nere o vedere la battaglia alla barriera io dopo quanto dieci anni ero comunque a bocca aperta quindi sono dei momenti dove la serie ha toccato dei picchi non facciamo confusione perché sennò poi ci dimentichiamo troppo ha toccato dei picchi e poi ha tirato dei pacchi possiamo dirlo beh sì no perché poi magari si fa che per accontentarsi che ne so di House of the Dragon si va a dire sì però Game of Thrones non è che fosse no favore ci tengo a questa cosa sì c'è anche una rivalutazione negativa hai ragione non sai quante volte ho sentito dire House of the Dragon meglio di Game of Thrones una marea favore ma allora a me la prima stagione non è piaciuta per nulla l'ho trovata tutta propensa alla pancia e poco alla testa voleva colpire il pubblico facendo leva su sentimenti davvero truci sensazionalismo a tutti i costi grottesco ma a volte anche proprio trash situazioni improponibili anche nelle dinamiche di un regno fantasy molto crudo pensate al torneo del primo episodio dove si ammazzano tutti cioè le famiglie nobili mandano i primogeniti a morire in un torneo per celebrare la nascita di un bambino ma da quando? ed è solo l'inizio ce n'è di ogni il membro di una famiglia nobile importantissima che viene decapitato in mezzo alla sala del trono non per ordine ufficiale perché non gli sta simpatico a uno che gli taglia la testa e la sua famiglia non fa un plissè cioè ce ne sarebbe abbastanza per fare una guerra e invece sono alleati di quelli che gliel'hanno ucciso va bene ma ripeto una regia a tratti tutta scura quindi non parto con i migliori propositi però ho riservato il beneficio del dubbio a questi trailer e mi è piaciuta la scelta di presentarne due proprio per creare una dinamica alla Civil War ecco dopo averli visionati due volte perché alla prima pensavo di essere stato troppo cattivo ho detto due mi rendo conto che non me ne frega niente tant'è vero che non so neppure se fare la rubrica comincio a interrogarmi su la mia volontà di mettermi qui ogni settimana a parlarvi di una cosa di cui platealmente non me ne frega niente non mi interessa di questi personaggi li trovo tutti orribili e scritti malissimo non me ne frega nulla di questa guerra dai presupposti talvolta demenziali anche tecnicamente io ho visto persone che parlano in stanze buie i draghi a me non sembrano fatti benissimo apprezzo il coraggio di mostrarli di più nella loro interezza ma io vedo le texture della computer grafica le vedo c'era un fotogramma non mi ricordo su che sito c'è l'occhio che è completamente spento cioè si vede che è finto magari ci siamo abituati ad altri standard negli ultimi anni non lo so e non è quello l'importante l'importante è ovvio che siano gli intrighi i tradimenti le guerre quindi fosse solo quello il problema vabbè però io non noto neanche tutto questo avanzamento del budget tecnico che magari poi ci sarà all'interno delle puntate però nei trailer il corridoio la stanza buia una mezza spada tirata fuori il drago che urla sì va bene è uguale è uguale alla prima a me sembra ripeto sì 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 e mi rendo conto che non me ne frega nulla proprio nulla poi ti dirò ti dirò su quello che dicevi tu adesso sulla questione per esempio dei draghi io vado un pochino più tranquillo nel senso che sono d'accordo con te no no il livello comunque è medio buono però però direi anche alto però non ho visto tutti i stimoli ecco come dici tu quello che manca è la non il realismo ma manca la sensazione di reale che sono cose molto diverse cioè reale all'interno di quel mondo lì esatto cioè nel senso tu percepisci anche quando gli attori insomma hanno a che fare con i draghi tu percepisci che sono degli attori su un set non lo vedi che sta effettivamente non vedi quella dinamica è molto sottile come come coeragionamento un po' una sorta di uncanny valley però della CGI non sei d'accordo Alex dici che per te no io ho letto il cervo bianco in chat e mi sono ricordato della punta ah ok potrei pungolarvi su tutti i traumi poi mi dispiace non avere la controparte positiva perché effettivamente stiamo dando al pubblico le nostre impressioni ma stiamo dipingendo un prodotto fallimentare quando invece no no non lo è assolutamente però sono miriadi di appassionati che non vedono l'ora io ieri ho visto su internet un entusiasmo sferticato sconvolgente ah che figo no non vedo l'ora ma che a me va anche bene che a me va anche bene sai cos'è che non va bene Mattia sai cos'è che non va bene e questa cosa qui c'è in tutti i medium adesso cioè proprio in generale a me sta bene e mi va da dio che ci sia delle persone che sono strafelici perché sono comunque contenti ma bello però però fermi mi sta già più sulle palle quando si accetta in generale supinamente tutto ciò che viene proposto che sia da Guerre Stellari che sia da Game of Thrones che sia il coso e poi però si fanno le pulci al cinema indipendente si fanno le pulci capito cioè si va lì non parlo di noi parlo in generale sul web no capito è come nei videogiochi arriva Grand Theft Auto 6 tutto concesso poi c'è un gioco indie sviluppato da tre persone nel sottoscala che hanno ipotecato la casa in fondo però l'erba è un po' granulosa mmm 5 al 6 gioco di merda ma scusa ma sono in tre no ma non credo c'è questo il caso e che mi dispiace semplicemente non avere qualcuno che possa difendere il tutto no no ma premesso però che nessuno qui di noi dà alla fine ha attaccato cioè nel senso abbiamo dato diciamo le nostre impressioni no cioè poi sì sì però però ho visto proprio tutti no insomma non lo so mi sento tra virgolette in piacevole compagnia però ti manca il contraddittorio che in realtà sta festeggiando secondo me non stiamo presentando il giusto corrispettivo perché in realtà c'è un entusiasmo contagioso contagiosissimo ma secondo te perché è accaduto questo? che ha fatto impazzire non lo so non lo so cioè che poi si rifà la domanda che ti facevo prima no? cioè nel senso perché io ultima ma seriamente tutte le volte che mi è capitato di parlare di House of the Dragon io non ho conosciuto effettivamente nel mondo reale cioè di persone tangibili come voi che conosco posso toccare anche con gioia molte volte ci voleva Vic ragazzi io l'ho invitato e mi ha detto che c'era che ci posso fare forse Victor è l'unico che conosco ma non ho mai conosciuto nessun altro che mi dici cavolo non vedo l'ora adesso di andare a casa e vedere House of the Dragon ma vi assicuro ragazzi che alla fine di questa puntata di faccia di nerd la HBO sarà ancora in piedi Martin il miliardario e a giugno questa serie farà il record di ascolti quindi anche un po' sticazzi no? ma certo ma quello per carità no ma era una riflessione personale perché di solito qui abbiamo tanti spettri motivi e io oggi pensavo di essere il solito musone impopolare che la mena e invece oh non è piaciuta a nessuno ma nessuno però ma anche la chat vorrei che Victor fosse infantanato nel mondo virtuale del problema di tre corpi visto che gli hanno mandato il visore quel maledetto e quindi è perso nella realtà virtuale allora vabbè vabbè se prendete la serie come se fosse un Fast and Furious quindi non riflettete troppo su cosa sta accadendo ancora ancora dice eh sì ok qualcuno che è piaciuta comincia ad arrivare in chat secondo me Alex ha fatto una giusta riflessione cioè secondo me non c'è ovviamente vergogna nell'apprezzare House of the Dragon ho visto roba ben più esaltata di ben peggiore di questa esaltata molto di più solo che appunto io ne vedo parlare come di una serie straordinaria basterebbe dire è piena di fanservice è pieno di sangue è pieno di draghi è pieno di gente nuda che fa cose sudata mi piace per quella il mio guilty pleasure è anche veramente come dice Mattia sembra che sia uscito di soprano vabbè ma magari se la prendi come una tutta nara divertente io neanche quello sinceramente perché mi ha annoiato a morte però magari Michele c'è chi ti direbbe no questa serie a tutti i pregi possibile quindi ribatterebbe alle tue osservazioni negative è quello che diceva Mattioschi manca il contraddittorio perché poi chi l'apprezza ho trovato tanti commenti equilibrati in chat ma in genere chi l'apprezza la trova straordinaria quindi è per quello che mi stupisco dei nostri giudizi di oggi c'è proprio un amore spassionato beh ma è come Paolo che dice che sono grandi serie delle Mandalorian per forza ma è bellissima c'è anche poco confronto tra quelle che ho visto e non importandomi niente di Star Wars per me di Mandalorian qualcuno ha visto cinque serie tv tra quelle che ho visto esperienza clamorosa nel senso va bene non c'è mica problemi in siciliano lo direi questa volta non si sa vedremo se come spesso capita a un grande bot iniziale piano piano cominciano a seguire degli scritti può essere e anche perché bisogna vedere quante puntate saranno anche questa 10 10 10 bisogna vedere anche come come sono scritte poi perché giustamente noi ci basiamo tutto sulla prima stagione magari questo è More of the Sein però magicamente i personaggi cominciano a dare senso a voler essere onesti il pad di Costant Costantin si chiama di Cognito comunque quello che faceva il re con tutto che era uno zombie era terribile la sua ultima puntata ogni tanto mi ha regalato delle emozioni la sua ultima puntata quando è lì per morire io ho pianto quindi devo essere sincero ogni tanto nonostante le esagerazioni se scrivono bene non fanno cacate può esserci posso togliermi una soddisfazione che poi ovviamente i premi sono relativi ok meglio lo dico lo dico veramente per ridere non si valuta la qualità di qualcosa sulla base delle statuette vinte però all'epoca no attore straordinario io dicevo attore incredibile e io rispondevo guardate che con quel make up vi facevo piangere anch'io l'hanno ridotto uno scheletro umano tutto spappolato ovvio che ti dispiace proprio a livello empatico per chiunque no no incredibile emmy emmy non ha vinto un cazzo quell'attore ma manco candidato non l'hanno proprio che bello per me almeno una cosa va detta è un attore della madonna è un genio assoluto però appunto cioè è quell'attore straordinario che sotto un make up così pesante in un contesto così va quasi col pilota automatico cioè nel senso le grandi interpretazioni sinceramente ah gli ha fatto i complimenti martin ah ma si però voglio dire oggi dicevamo in live con paolo è come james cameron che ha detto che alien romulus l'ha visto è bellissimo come era bellissimo terminato il dark fate eh lo so no ma non allora ragazzi poi non voglio dire che fosse un cane gli attori sono quasi tutti bravi tranne christone call per citarne uno però di norma sono attori britannici che hanno un'impostazione anche teatrale shakespeariana bla 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 si che qui hanno lasciato fuori perché e sempre per farvi capire quanto fosse esponenziale l'amore per questa produzione che oggi non ritrovo e quindi sono un po' disorientato si il boccia nel senso e poi a me sta avvenendo un dubbio a livello proprio di trama perché ci è riflettuto tutta la roba lì della profezia del pugnale di vabbè ma che sofferenza no ma io sto pensando io pensavo magari l'hanno messa così da chissà cosa costruiscono invece secondo me l'hanno messa solo per la roba del re che dice tu devi essere regina poi mentre muore cioè solamente ti spiego ti spiego io perché l'hanno messa e questa è una mia fanta teoria in cui credo ciecamente sempre che Kit Arrington voglia tornare ad un certo punto avevano tirato fuori la prospettiva serie sequel su Jon Snow e se la fanno se la fanno retconnano le ultime stagioni di Game of Thrones dicono che gli strani non sono stati sconfitti che oltre alla barriera c'è ancora una minaccia e lui torna ad essere l'erede della profezia preparateli se la fanno perché a sto punto ne hanno annunciati mille di spin off ce n'è solo uno chi può dirlo ma il piano sul lungo termine mi sembra quello non so neanche ma è tutto che poi è tutto inventato perché non esiste nulla no? c'è no no sarebbe inventato non c'è nulla non c'è nulla ma sì la recitazione anche fisica ragazzi secondo me non si può valutare la recitazione di uno che con il make up non c'ha il braccio c'ha mezza faccia distrutte lì che piangi che devi fare piangi mandatore io mi ricordo che stavo mangiando un panino poi dopo è ovvio che uno deve avere un certo tipo di talento per esprimere anche sotto un make up un prostetto ma certo ma certo Brandon Fraser ci ha vinto l'Oscar l'anno scorso in quella popò di tuta è anche vero che aveva una recitazione più umana un attimo più controllata quello è un culmine drammatico perché ne ho visto delle scene anche se non ho visto la puntata ne ho visto delle immagini perché René l'ha guardata tutta invece la serie nel senso è un po' come no l'abbiamo detto perché Emma Stone ha vinto l'Oscar e Riri Gladstone no perché tanto quando qualcuno inizia a fare Oscar fate la clip di questa cosa vi prego cioè è chiaro che l'esagerazione oppure Adam Driver e Hawking Phoenix come? è quell'anno lì che c'era da una parte Adam Driver e dall'altro Hawking Phoenix esatto l'abbiamo detto la settimana scorsa due settimane fa parlando di Oscar è un dato di fatto presso il pubblico presso l'Academy per dire l'esagerazione è sempre più notata se te invece vedi l'attore che va in sottrazione quasi quasi è un cane capito? è una percezione perché piacciono le trasformazioni fisiche e il bello che diventa brutto il brutto che diventa bello è quello che fa l'accento perché è la roba che subito trasformazione incredibile dell'attore guardate cosa ha fatto pur di diventare pur di fare il prima esatto come di capo che ha mangiato della carne lui che è vegetariano per il ruolo vedete quanto si è dato sì no poi ammetto ma lì è una paranoia da lettore che mi ha dato anche particolarmente fastidio perché nel romanzo sì si prende una malattia gli va tipo in cancrena la mano perché continua a tagliarsi sul trono che metaforicamente lo ritiene illegittimo ma questo muore serenamente non diventa un cadavere un tronco umano no se non sbaglio gli tagliano un dito o forse tutta la mano dovrà rileggere ma lui vive benissimo racconta le fiabe ai suoi nipoti va a dormire e non si risveglia non è quella tragedia purulenta che hanno fatto vedere per otto puntate la passione di Viserys ed è tutta così eh si sposano e ammazzano quello lì in mezzo al corridoio con il questi si ripromettono con i topi che leccano il sangue ma che cazzo cioè veramente una roba grottesca ma un mio gusto personale ragazzi se vi è piaciuta fate bene anzi per fortuna che c'è qualcuno a cui è piaciuta perché cominciava a sembrarmi strana la situazione comunque i topi non avevano nipoti ok vogliamo aggiungere qualcosa io non so se passare subito alle domande degli spettatori o tirare fuori un argomento bonus 140 trailer dai un argomento bonus rapido rapido eh proprio flash quindi Alien no non ho già parlato non ho già parlato possiamo scegliere ma io voglio solo per una roba veloce Michele mi pare che non sia non è uscito ieri sera a Michele non è piaciuto il trailer di Alien Rombus però no beh però ce l'hai visto dai facciamo una grande zuffa cioè quindi proprio interventi liberi non su Alien quello non ho già parlato ragazzi c'è bit cortesemente dottor Matioschi lo chiami col suo titolo Beetlejuice Beetlejuice è un teaser di merda lo vogliamo dire di merda no però è anonimo da morire è un teaser del cazzo io mi aspettavo molto di più beh sì mi è piaciuto molto di più quello di Alien Romulus e a me Fede Alvarez non fa impazzire come regista cioè a parte Don't Breathe come si chiama la casa è bruttissimo per me ma indipendentemente da questo vabbè però per dire da Tim Burton mi aspettavo qualcosina in più mi è sembrato molto molto canonico mi è sembrato non c'è un attimo in cui ho percepito una sensazione di positività cioè è tutto molto standard poi appare Michael Keaton ok e finisce poi magari essendoci Tim Burton sarà un grande film non sono affezionatissimo al primo che ho visto una volta e non ho più rivisto poi lo riguarderò per quanto possiamo definirlo tranquillamente un bellissimo cult ma non so voi sono curioso di sapere la vostra perché per me c'è c'è troppo fomento dietro a un tiserino molto basico no io lancio la polemica poi sento cosa dicono gli altri ovviamente vabbè Alain Romulus semplicemente non è che non mi è piaciuto è che sembra la demo di un videogioco che per qualcuno è una cosa positiva vabbè non è dai no no era una battuta bellojuice beeteljuice a me fa molto sorridere che viviamo in un momento abbastanza lungo storico in cui si critica soprattutto da parte dei cinefili la standardizzazione dell'immagine la netflixazione netflixizzazione dell'immagine dove tutto è uguale tutto è piatto tutto è fotografia l'ho fatto in Barton genio io lo dico e lo ripeto per me dopo Dark Shadows e faccio un passo in più di quello che molti fanno perché per me Dark Shadows è un mezzo capolavoro molto frainteso escluso Frank and Winnie in ambito animato per me Tim Barton è una vindicina d'anni che è morto che tutto quello che ha fatto dopo è fra il sufficiente soprattutto anche la roba per esempio io Dumbo non l'ho odiato come la maggior parte delle persone però per me è un film che potrebbe fare chiunque sinceramente Miss Peregrine è un film brutto Big Eyes per me è un film che non ha senso drammaticamente da 15 punti di vista diversi ma non apro sul passato io poi sono uno di quelli e io avrei bisogno che qualcuno mi analizzi che sostiene che le quattro puntate dirette da Barton di mercoledì e le quattro dopo sono identiche qualcuno fa eh ma si vede io sono d'accordo a me mercoledì è divertito ma di Barton non ci ho visto cazzo per me sono di Barton quelle che non ha diretto Barton bravo bravo esatto verso la fine quando degenera ora poi uno può dire ha dato le sue indicazioni ha messo diciamo del suo nell'impianto artistico estetico della serie e hanno seguito per l'amor di Dio ma non mi sembra una serie rivoluzionaria da un punto di vista estetico né che aggiunga niente alle cose geniali che ha fatto in passato per me Tim Barton è stato un genio assoluto del cinema un pioniere anche un ribelle ricordiamolo perché quando lui faceva Beetlejuice i primi due Batman era fuori dagli standard della Hollywood che conta ricordiamoci la polemica sugli happy meal di Batman in ritorno che happy meal happy meal ma questi staccano i nasi ammorsi e ci sono doppi sensi sessuali a go go che sta roba qua non è per bambini quindi Tim Barton è stato un grande io non credo che ci sia niente l'ho anche detto per esempio nei confronti di registi che amo molto di più al contrario di Spielberg e Scorsese che che se ne pensi Brian De Palma e Coppola dopo gli anni 90 non si sono adeguati al mercato e al cinema in cui avrebbero dovuto lavorare infatti le loro carriere si sono fermate o hanno fatto un paio di film poco visti e anche meno riusciti rispetto al passato io non penso che sia un crimine contro l'umanità dire che a un certo punto Tim Barton ripiegando su se stesso all'ennesima potenza il suo stile è diventata una coppia sbagliata di se stesso e io lo credo fortemente e secondo me si vede anche da questo teaser trailer che ha una fotografia assolutamente anonima e che è vero e poi ripeto magari il film è un capolavoro io come Paolo non sono molto affezionato a Beetlejuice non è un film della mia infanzia però se oggi basta come diceva prima Matioski con House of the Dragon far scoppiare l'internet Michael Keaton che sembra il cosplayer di Beetlejuice che viene fuori da un tavolino e allora però insomma alla preferisco farmi le mie pippette sul fanservice scemo di Ghostbusters che però è un film di Gil Cannon capito? non è di Tim Burton che è considerato un genio qualunque cosa tocchi mi sembra un po' poco poi ripeto io sto giudicando il teaser il film sarà un capolavoro penso che sarà Venezia lo vedremo ci mancherebbe però anche questa cosa dell'intoccabilità davanti a un palese e sfida di qualcuno che negli ultimi dieci anni l'abbassamento di qualità del tuo cinema è palese non lo so mi sembra un pochino di andare un po' troppo col pilota automatico però signore F mi sembravi più positivo tu a leggere un po' su internet infatti Instagram di storie tu l'hai apprezzato io sono veramente a bordo perché fino a due mesi fa non avevo fiducia nel progetto mi sembrava tutto un po' così l'ennesima operazione di nostalgia difficile da traslare ai giorni nostri sappiamo che Tim Burton sta mantenendo comunque la stop motion non vuole fare niente in CGI quindi vuole proprio tenere fede al primo capitolo a me è piaciuto perché tanto vabbè si cerca di fare l'occhiolino al primo film con la canzone diversa riarangiata diversamente evocativa si parte da un funerale è l'incipit del film quindi è un po' difficile farti la parte divertita secondo me il secondo trailer punterà un po' di più su altri aspetti è un teaser perché vi dico due mesi fa non avevo fiducia nel progetto perché poi arrivando alla trama secondo me è qualcosa di ambizioso ambizioso che forse non voglio essere garantista con Tim Barton non lo sapete io manco Dark Shadow che l'ho visto recentemente proprio manco quello però ci sono delle cose che mi hanno fatto dire ah ok quindi non state ricalcando non state facendo il more of the same c'è qualcosa di un po' più particolare sembra quasi che il film sia stato fatto perché si vuole andare un po' più in là non è semplicemente sai dobbiamo fare i dinosauri che scappano dall'isola e poi ti ci mettono le locuste vediamo e quindi vedendo il trailer vedendo Jen Ortega che poi avrà il suo magari avrà anche lei il suo balletto tiktokabile che piace tanto a Michele per il resto poi vediamo anche il vecchio caso vediamo una Rider quindi anche il Michael Kiddon che è di turno dico no ma sai sono positivo ma positivo perché sapendo il film com'è dico ma sai che quello che ho letto mi è piaciuto ma non gli davo due lire per me era quasi e forse lo è ancora non lo so perché poi la resa a schermo è tutta un'altra cosa lo trovo quasi impossibile riuscire a traslare quel tipo di bislaccheria passatemi il termine nel 2024 senza riadattarlo al cinema di adesso e ora le nuove generazioni riescono ad abbracciare quel tipo di cinema riescono a mixarlo e un dubbio però allo stesso tempo dico ma che cose strane che vi siete andate ad inventare una cosa un po' un po' fuori di testa vediamo un po' a me per essere un teaser non è dispiaciuto ad esempio ma non sono legato affettivamente al capostipite non è stato un film della mia infanzia l'ho recuperato proprio tardi e pur apprezzandolo non lo ricordo neanche molto bene dovrei riguardarlo è veramente una sorta di trailer di annuncio per far capire a tutti che il progetto esiste c'è c'è Jenna Ortega attrice di punta ritorna Michael Keaton la canzone riarrangiata una certa atmosfera l'ho riscontrata partendo proprio da delle premesse bassissime dalle aspettative inesistenti e ho pensato ma guarda che sicuramente Mattia questa la dico c'è un valore mi ha suscitato qualcosina in più rispetto a The Ecolite che veramente a me non ha detto niente sono d'accordo vedi sono d'accordissimo per me il problema era che sapevamo tanto anche poi cioè questo teaser a me sembra anche fatto vedendo io lo sapete ogni tanto vado anche nei fondi reconditi di internet quindi tipo TikTok però i trailer lì aiutano molto secondo me a vedere un po' il polso veramente della persona di passaggio ancora di più che su YouTube perché se tu su TikTok fai i scorri a un certo punto bam Genna Ortega in bicicletta tiro via il velo sui modellini della via esce dal tavolo appunto Beetlejuice e tu vedi i commenti con gente che dice cosa oddio sta tornando ah ma no cioè quindi sicuramente quella valenza come ha detto Mattia di ti annuncio che il progetto esiste chiaramente noi arriva Beetlejuice l'ho fatto in Barton c'è la Ortega sarà un sequel si intitola Beetlejuice Beetlejuice c'è gente che ha scoperto il titolo con questo trailer quindi c'è anche un po' quello chiaramente sapendo tante cose poi il teaserino proprio basic non ti magari ti dà ti dà meno del previsto io comunque che sì non sono neanche affezionato alla fine a Beetlejuice era uno di quei secondo me Beetlejuice era uno di quei cult davvero cult cioè ci sono quei film tipo Ghostbusters che è difficile che una certa generazione di una certa età quelli nati fin anni 80 primi 90 non si siano beccati su Italia 1 ecco Beetlejuice era già un po' diverso lo davano meno era un po' più difficile cioè come certi film io lo dico sempre che film come Batman Forever capito era quella roba che negli anni 90 davano continuamente su Italia 1 molto più di altri così come il secondo di Barton lo davano di più del primo a un certo punto cioè ci sono quei film secondo me che sono arrivati i Beetlejuice sono un po' così detto ciò parlando di fiducia chiaramente come diceva Michele Barton per me è abbastanza arrivato da 15 anni ma anche di più io non salvo nulla non distruggo magari tutto come dice Michele veda sì anche il suo il suo Dumbo ma dire bel bel film non vedo l'ora di rivederlo veramente dal 2003 2004 per me il suo ultimo capolavoro è Sweeney Todd però c'era anche la parte di un grande musical esatto pure Sweeney Todd tendenzialmente si dice Sweeney Todd è la cesura in tutti i sensi tra il Barton bravo e quello meno bravo quindi chiaramente non c'è neanche il dire Barton sta tornando meno male ma attenzione uomo perché è una cosa che a me è un po' infastidito che mi ricorrego quello che ha detto Michele io quando l'hanno annunciato un sacco di gente ma io di Barton mi fido ma io ho fiducia in Barton sono vent'anni che diciamo che è bollito improvvisamente ma perché loro non hanno visto i film molta gente dice ah Barton io lo adoro ma non è anche che ha fatto Dumbo che conosco su Facebook cinefili che sanno cosa ha fatto Barton che si lamentano del cinema attuale bla 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 sequel di B2G direttamente da Barton no va bene ma vi siete lamentati dei sequel di Barton fino a due ore fa improvvisamente e ora va tutto magari sperano che la sua creatura che poi lui è il litigio con Warner perché pochi mesi fa hai ragione sono d'accordo con te però un conto è dire ci spero un conto è dire mi fido cioè sono due cose diverse no no mi fido allora che cazzo io ovviamente la critica che ho fatto prima era il teaser io spero e credo che ci sia tutto il margine perché il film sia bello e spero perché io spero che sia bello io ripeto sono cresciuto con Tim Barton spero che torni a essere Barton però quello che ho visto mi fa vedere il Barton in colore che ho visto negli ultimi film è molto generic è molto sembra Barton e poi dice no ma è Barton vuole fare Barton io credo che sia giunto il momento di ricordare alla chat che Nightmare Before Christmas non è un film di Tim Barton ogni tanto diciamolo Harry Selig sì noi invece ah volete concludere no io sono rimasto un po' freddo perché si è un po' avverato il mio timore cioè che sì ok il look di Winona Ryder è quello il look di Beetlejuice è quello ma sono passati quasi 40 anni premesso che per me Beetlejuice è uno dei quattro capolavori di Barton insieme a Edwood dei due romani di Forbic e Big Fish ho fatto tanti film ottimi ma i capolavori i capolavori per me sono questi quattro e ok ripeto il look è quello ma il giorno d'oggi con le nuove cineprese con questa nuova patinatura non è la stessa atmosfera e paradossalmente io non vorrei neanche che si torni indietro perché se provi a rifare a girare come allora io temo l'effetto di X-Man 97 che ho visto una clip in cui questi parlavano e sembra che laggavano perché volevi fare l'animazione anni 90 no fidati guardala magari fosse quello l'effetto dannazione magari che figata incredibile ma 97 senza senso tornando al tornando al film quindi appunto si ok tornato Beetlejuice sono contento ma anche se fosse considerato ancora bravo Barton sono passati 40 anni non è più la stessa persona di allora si noterebbe comunque la differenza quindi è un'operazione su cui io sono molto non sono molto fiducioso poi ovviamente lo vado a vedere perché siamo cinefili Barton si va a vedere secondo me lo vediamo al Lido di Camaiore no no di Veneto ma io volevo chiudere la Warner porta Joker 2 e Beetlejuice e Beetlejuice vince Lone d'Oro pensa visto che abbiamo un po' di tempo per le domande chiuderei l'argomento volevo solo togliermi uno sfizio stavamo parlando del progetto e del teaser a livello qualitativo c'è chi ha già puntato sulla quantità però secondo me avete scelto il cavallo sbagliato ho letto in chat che Winona Ryder porta grandi incassi ora da quando c'è stato il suo rilancio sono passati quasi otto anni la prima stagione di Stranger Things è del 2016 sono andato a ricontrollare ammazza quanto tempo è passato i film con lei presente arrivati al cinema in questi anni sono tre preparatevi ai successoni destinazione matrimonio fuga nella notte la casa dei fantasmi garanzia di botteghino sbancato senza contare un'altra cosa che anche prima di Stranger Things a parte qualche film la sua carriera è finita dopo le anni 90 sì sì certo a prescindere lo star system l'abbiamo già detto non esiste più al giorno d'oggi fa più il personaggio che l'attore ma io infatti oggi con Paolo in live ci ho avuto la mezza discussione perché io capisco che è instagrammabile tiktoktabile quello che vi fa tiktoktabile però anche questo strapotere di Genno Ortega una volta ci abbiamo avuto la riprova io ho fatto l'esempio oggi Scream 5 prima di ne ha fatto 137 milioni Scream 6 non ne ha fatti 400 ne ha fatti 32 di più sti gran cazzi e poi sono arrivati finest kind un milione e sei di incasso in tutto il mondo e Miller's Girl no è quello Miller's Girl 1.6 no finest kind è su Netflix se non sbaglio ok ma poi è ovvio che Genna Ortega associata a un progetto di Tim Burton è già una copiata più interessante ma ci mancherebbe il valore della Rider è che era la protagonista del primo che torna quindi ci sono delle interconnessioni però non basta quello non basta assolutamente poi è ancora presto adesso per dire va bene fa male il meteo un attimino un attimino c'è uno strano è ridetto lo Star Citizen come addettuale è morto tutti i film delle star dell'MCU usciti nel corso dell'MCU sono stati flop guardate per povero Cristo e peraltro erano tutti i tre bei film di Chris Hemsworth Rush Black Hat e In the Heart of the Sea tre filmoni per quanto mi riguarda anche per me è uno che ha fatto soldi uno eh uno cioè è proprio non esiste più l'attore tranne DiCaprio tranne di tutti i nomi che muove le masse si può muovere 30 milioni che sono tanti ma anche pochi i miliardi come faceva che ne so Richard Gere negli anni 90 io saluto il signor F e ne approfitto per chiudere questa parentesi salve signor F io vi saluto vi ringrazio avevo dimenticato che dovevo andare a lezione era fresco una Pasqua grazie buon weekend buona Pasqua però avrei un'ultima riflessione c'è uno strano paradosso a Hollywood per cui da un lato si punta sui franchise e a parte l'anno scorso spesso il più grande incasso di un anno è di un franchise penso Avatar e Top Gun se guardate la maggior parte di queste operazioni anche a livello di incassi vanno in merda Space Jam ragazzi io vi dico il mio Beetlejuice andrà bene ma non sarà una roba ma se ci pensate anche Ghostbusters sarà andato benino perché era costato poco se non era un flop devastante anche quello ma ti è costato Space Jam che flop è stato gli Alien di Scott e Blade Runner 2 tutti pensavano successone tutti i grandi ritorni mi sa che ancora presto per saperlo il prezzo io lo sto cercando ma non lo trovo come ritorni ragazzi sono andati bene a livello di botteghino Star Wars i live action Disney i Jurassic Park e pochi altri ma infatti sono tutti dei test e dicono ragazzi vediamo cosa interessa ancora e cosa no è proprio quello loro dicono proviamo Blade Runner è un cult quindi sarà veramente un cult sarà nato nel pubblico alla fine risposta probabilmente no in quello perlomeno grosso che deve fare rimuovere i soldi mi scrivo in chat Godzilla e Kong si ragazzi il MonsterVerse ha fatto mezzo miliardo due volte non è che ha mai fatto chissà quanto vediamo questo Godzilla e Kong ma non è roba che spacca i milioni io glielo augurerei anche però obiettivamente va bene va bene dai angolino dell'autopromozione allora si fanno lunghi questi angolini cercherò di essere breve iscrivetevi al canale mettete mi piace se state apprezzando questa puntata di Facce di Nerd commentate c'è più tempo del solito ovviamente privilegeremo le super chat ma daremo ancora più spazio e priorità alle domande audio degli abbonati chi si abbona al canale ottiene tanti ricchi premi, vantaggi cotillon, appunto, domande in prima linea, l'opportunità ogni settimana di assistere a due dirette in più speciali dove possiamo approfondire ulteriormente tanti discorsi conoscerci meglio, interagire anche con gli altri membri della community e chi si abbona a livello più alto può diventare ospite vero e proprio del canale nell'ambito delle puntate del Matioski Show del mercoledì vi ricordo anche la collaborazione con Pampling, sito che vi propone tante magliette con stampe che fanno riferimento a tutto il mondo della cultura nerd, con il codice Intimaotto vi portate a casa un paio di calze gratis, calze sempre con stampe particolari che potete scegliere, il codice tra l'altro è sempre valido e riutilizzabile, veramente all'infinito quindi ogni qualvolta fate acquisti su Pampling se volete ci sono sempre le calze che vi aspettano c'è NordVPN, il servizio VPN dà le tantissime funzioni ci protegge durante le peregrinazioni internetiane, ci permette di visitare siti oscurati in Italia di collegarci ad internet in modo fittizio da un punto qualsiasi del globo per approfittare di magari promozioni geolocalizzate utilizzando il link che trovate in descrizione nordvpn.com slash matioski vi cuccate uno sconto esclusivo quattro mesi di utilizzo gratis se sceglierete di abbonarvi al piano biennale e l'opportunità di ottenere il rimborso completo della vostra spesa entro 30 giorni nel caso doveste scoprire che NordVPN non fa il caso vostro chiudo parlandovi di una piattaforma streaming italiana si chiama HODTV guardate che immagine rasserenante si tratta infatti di una piattaforma dedicata al cinema horror e thriller indipendente internazionale trovate un sacco di chicche altrove irreperibili film tutti in italiano alcuni doppiati, alcuni sottotitolati utilizzando il link che trovate in descrizione ma visto che siamo giovani al passo coi tempi utilizzando questo pratico cotice QR potrete godere dei contenuti della piattaforma per 60 giorni senza pagare un soldo due mesi di prova mica male tra l'altro c'è anche l'opportunità di vedere i vari film con un watch party quindi potete invitare altri utenti iscritti e commentare simultaneamente quello che state guardando e si sa che con il genere horror a volte è proprio bello in compagnia divertirsi commentare ridere quindi una bella procedura decidere quelli che cagano il cazzo in sala no quello lo faccio solo io non sarà questo il caso perché comunque un watch party virtuale bene 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 ragazzi io vi ringrazio tantissimo purtroppo devo scappare però vi mando un bacione ciao andros ciao bellissimi buon weekend grazie matioschi ciao belli ciao io vi ricorderò sempre quando vi di annabel 2 uno di fianco a me che per metà film oddio di dio di dio oddio di dio di dio se avessi avuto qualcosa di affidato lo vuoi incontrare dio adesso dici mando se vuoi forca miseria allora fatemi capire da dove iniziano le domande perché c'è un po' di confusione nel gruppo ma dovrebbero essere no Spielbergo Spielbergo chissà cosa ci chiede prego ciao a tutti i membri di Facile spero che state tutti bene lì seconda settimana è stato riproposto in sala il film Temesk quello con Jim Carrey del 1994 dove tra l'altro è solo di Cameron Diaz cosa pensate di questo film che ormai è un cult per noi nati negli anni 90 o cresciuti negli anni 90 io lo ritengo un film molto divertente e per grosso modo è anche citabile secondo me Jim Carrey la fa da padrone secondo me il suo ruolo è perfetto non sarà violento come quello il personaggio del fumetto da cui è tratto il film però spacca di brutto secondo me come personaggio e poi ovviamente Temesk 2 ovvero Person of Temesk non esiste quel film lì ce lo siamo sognati tutti quelli che lo hanno visto non faceva ridere le battute scarse una CGI peggiore quindi cosa ne pensate del primo Temesk del 1994 ciao a tutti bellissimo cosa dobbiamo pensare io prima di rispondere però giustizia per The Max 2 che è una cosa bella l'ha portata la recensione del nostalgia critica quindi in realtà ha fatto anche cose buone bellissimo io lo registrai in televisione mi ricordo da bambino The Mask non so quante volte l'abbia rivisto ma io ero affezionato sia al personaggio di The Mask che mi faceva paura la maschera da bambino sia proprio a Stanley Ipkiss e mi piaceva tantissimo il doppiaggio di Pino Quartullo perché quando si pensa a Jim Carrey si fa sempre riferimento oddio vuoto di memoria e dicendo pedicini si 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 ed invece secondo me Pino Quartullo fa un ottimo lavoro e anzi tante volte mi è mancato alla voce di Jim Carrey quindi si il secondo andai addirittura a vederla al cinema da bambino ma a quell'età mi piacqua ma avevo quanto otto anni poi rivedendolo crescendolo crescendo io il secondo non l'ho mai visto io per scelta presa proprio ma c'era Loki c'era Loki si c'era Loki che trovava la maschera io ricordo proprio che dissi mai nella vita e tutt'oggi non l'ho mai visto e non lo vedrò mai The Masked 2 è un film sbagliato da ogni punto di vista il primo beh credo che sia forse la miglior trasposizione in live action di un cartone inteso proprio come concetto cioè il cartone animato che diventa live action ah ok ok la riproposito non vale Roger Abbey perché lì sono cartoni che interagiscono proprio un cartone che però pensavo che tu dicessi l'adattamento di un cartone preesistente bla 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 beh tu scherzi ma io da piccolo ero convinto di sì ero convinto io ho passato anni della mia infanzia a credere che scuola di polizia The Masked Ghostbusters e dei suoi vintura sono film fatti dal cartone ci ho messo anni a capire che era il contrario comunque è il ruolo della vita di Jim Carrey cioè per uno che ha una faccia di gomma The Mask è lui ricordiamo i denti che si metteva lui insomma veramente fantastico CGI perfetta e mi spiace più che altro per il regista Chakras che è uno che ci ha portato The Masked Nightmare 3 quel gioiello sottovalutato di Blob che è molto meglio del Blob degli anni 50 e poi niente è finito a fare il re scorpione Nightmare 3 Travatar dai Nightmare 3 è bello è vero Nightmare 3 è uno dei più belli è vero della serie è il più bello senza Kraven è vero e poi niente è finito a fare il re scorpione e poi è sparito un vero peccato però comunque no resta un grandissimo film The Masked tra l'altro The Masked c'è anche poco nel senso io avrei dato il rene per vedere un sequel con Jim Carrey qualche anno dopo ho fatto io sono vendetta con John Travolta non l'ho visto qualche anno fa l'aveva detto che se avesse avuto una sceneggiatura convincente così come è tornato con scemo e più scemo sarebbe anche ritornato con The Masked però cioè la voglia se da una parte c'è dall'altra c'è una paura tremenda anche se uomo uomo io di seguiti dei film con Jim Carrey vedrei quello ma è realizzato con la sceneggiatura pronta di una settimana d'addio in cui lui diventava satana per una settimana una settimana d'assata già il primo era bellissimo ma poi sono andato a leggere quello sarebbe stato stranamente interessante tra l'altro tra l'altro Travatar ha parlato degli effetti speciali che clamorosamente non vinse l'Oscar era candidato ma vinse Forrest Gump per via dei filmati in cui stringeva la mano per la cancellazione delle gambe del tenente Dan chiaramente sono effetti speciali specificamente più importanti perché erano tecnologie nuove più innovative più invisibili però io ricordo da piccolo rimasi sconvolto io l'ho visto al cinema ovviamente dovevo tornare a vederlo questa settimana ma sono stato paccato all'ultimo minuto e mi faceva tristezza a vederlo da solo e quindi da solo ho visto con la merda di Imaginary che almeno mi ha fatto sentire diciamo meno triste in sala da solo e avresti voluto fosse Imaginary il film ma non eh infatti e no vabbè io all'epoca già ero innamorato di Jim Carrey per Ace Ventura poi sarebbe arrivato Scemo e più Scemo sono le tre punte di diamante del Jim Carrey degli inizi anche Missione Africa però il primo Ace Ventura The Mask e Scemo e più Scemo sono l'emblema dello strapotere di Jim Carrey degli anni 90 dell'odio dell'odio che si portava dietro senza citare per forza Batman Forever dove Tommy Lee Jones lo detestava però c'è stato un momento dove era era veramente l'attore che qualsiasi roba toccava era oro e se non ha mai anche Forever era un'unità so male quindi nella vita vera lui poi era un po' quella roba lì quindi la gente lo odiava anche perché probabilmente era il benigni ma basti pensare cosa ha fatto sul set di Man on the Moon no comunque The Mask io l'ho rivisto l'anno scorso è un gioiello tra l'altro in molti non lo sanno ma è uscito in Blu-ray l'anno scorso dopo che è stata un'esclusiva sì però della Cinemuseum no 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 vedi che tu sei un pirla io trovamelo è normale provamelo vai sulla polemica sulla polemica è disponibile solo da un venditore per adesso poi arriverà in tutti i negozi ma non sono subbattinita un venditore io dico la versione italiana in giro certo che è la versione italiana vabbè dopo ne parliamo Michele esatto la scena che la scena in cui balla con Charlize con la santa donna di Cameron Diaz sulla canzone Ehi Paciucco è una delle più esaltanti della mia infanzia io volevo uno dei momenti più alti è fermoti freddo ma perché ti sei congelato mi sono frizzato da solo e quando gli trovano la foto della moglie Margaret è il tuo figlio di puttana pensavo avesse il senso dell'umorismo dopo tutto se l'hai sposata lei tra l'altro chiamami maschione anche come adattamento no freeze trasformarlo in fermati o ti freddo Paolo cosa dice quando si trasforma la prima volta sfumeggiante con la F bravo bravo si vuole il culo e porto sei perché volevi prendermi in castanza io volevo dire due cose io anch'io in realtà con Obi prima il fin della sera animata anche se a me andavano quasi di pari passo perché in quell'epoca poi c'era la sera animata di tutto per me era normale che ci fossero le sere animate di quella roba lì la sera animata lo dissi già qua ma lo ribadisco il finale c'è il crossover The Mask e Sventura quindi sappiatelo l'ultimo episodio di The Mask inizia e finisce con una puntata di Sventura e a caso ve lo dico ricordiamo che nel 2009 uscì Sventura 3 con il figlio di Sventura che doveva insomma portare alto l'onore del papà quindi per salvare la mamma quindi era proprio anche canonico che schifo volevo chiudere lo stavi dipingendo tant'è vero che mi stavo appassionando volevo vedere io da anni spero io da anni spero che in Italia scusami ma dicevo fare i seguiti di Jim Carrey che spero che in Italia mi sovrappone la vicenda ho rifiuto l'altra volta vediamo la terza ma dicevo fare i seguiti di Jim Carrey in cui ho coinvolto un qualche figlio porta male esatto no dicevo io sono anni uomo che spero in una listampa come si deve dei fumetti di The Mask della Dark Horse no? io quando ero piccolo mi comprarono l'adattamento del film a fumetti che ancora custodisco e uno o due spillati che uscirono in concomitanza e nel primo spillato che ho comprato la copertina era un primissimo pieno proprio così della faccia di The Mask piena di santo sangue e tipo quella lì precisa e in quello c'è il momento in cui uccidono uno spacciatore di strada con un overdose di eroina ho fatto era un po' particolare era un po' diverso e questo era un adattamento tra l'altro infatti eccolo lì che come sempre aveva scene che magari non c'erano nel film io infatti adoravo come nell'adattamento in due spillati di Jurassic Park in cui c'era la spiegazione del perché stava male il triceratopo che era anche nell'adattamento del romanzo che nel film è tagliato comunque avete detto tutto voi mannaggia io ancora teoricamente non ho parlato infatti non l'abbiamo parlato rimaniamo lì tu sei piccolo non lo sai ragazzi ciao Paolo ciao 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 è stato un caldo della mia infanzia The Musk poi non so quando è uscito in Italia in America magari 94 direi io avevo un anno quindi vabbè ok però no però quella cosa che mi fa ridere ripensando che cazzo ci guardavamo noi bambini negli anni 90 perché The Musk si ha i momenti che tu sei bambino non capisci fa ridere ma tu lo riguardi ci sono un sacco di battute sessuali qui c'è uno dei gangster che muore con la sigaretta in bocca che non riesce a fumarla e quello su cui si vuole vendicare ma soprattutto crivellato di colpi sanguinante una roba crivellato di colpi però una delle scene più belle però è quella in cui lui fa i palloncini per i criminali e loro sono confusisti che tira fuori il preservativo e poi prende il preservativo ho sbagliato d'asca sì poi io non so chi ha avuto chi ha avuto il pensiero di dire facciamo che Cameron Diaz lecca Jim Carrey perché in realtà è un sogno ed è il cane perché in realtà quella scena non è che fa ridere ma risveglia in me bambino una cosa che ho detto ah quindi sono etero capito ecco sì 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 lì erano quei quelle prove del nove sì 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 ho detto basta è fatto dove cominciavi a dire ma io non capisco bene il motivo ma questo personaggio mi attira particolarmente finale io l'ho sempre odiato non tanto perché finisce bene ma perché lui butta la maschera sul fiume ma sei coglione ma sei stupido infatti quello si butta e se lo va a prendere il cagnolino sì io ho sempre desiderato un prop fatto come si deve della maschera sono sicuro che da qualche parte si trova sì qualche pazzo avrei dato un braccio per avere la maschera fatta di legno come come diciamo che a me quel finale deluso è proprio perché siccome pensavo che fosse una trasposizione del cartone io pensavo ma lui se la tiene la maschera perché la butta via è proprio perché in realtà era il contrario anzi la serie tanto sarebbe sequel del film neanche trasposizione ma un teorico sequel ma ai tempi quei sequel animati erano sempre in canone fino a un certo punto ma sì ovvio erano una cosa per il vero eroe del film era Milo per vendere giocattoli comunque un grande un grande cult visto a ripetizione come diceva Michele era veramente il periodo d'oro di Jim Carrey che mi faceva dire da bambino il mio attore preferito erano tutti film divertenti sopra righe non l'ho visto al cinema la locandina mi inquietava abbastanza in televisione invece amore puro anche per il cattivo che non è che fosse molto caratterizzato ma l'idea che prendesse lui la maschera diventasse cattivissimo c'era sempre quell'elemento trasformazione che da piccolo un po' ti fa sempre fantasticare ho provato non lo rivedo da anni però da anni ho trovato ho trovato un prop del film autografato da Jim Carrey a 15.000 dollari dai beh è il mio compleanno sentiamo cobrante ciao Mattia ciao ciao e oggi una domanda sulla figura del vampiro c'è chi c'è il figlio delle mummie dei zombie dei rummannari tra dei vampiri quindi un vostro take sulla figura del vampiro in generale a livello cinematografico seriale animato perché no e magari se mi toccate anche un attimo le vostre interpretazioni migliori peggiori e film anche migliori e peggiori un'ultima chiusa se ve la strada del tempo sul fatto che ci sarà il remake in un asferato un pensiero sul vecchio film e quanto ha il pavete per il nuovo ammazza cobrante però qua dobbiamo stare 50 minuti mi sai una domandina una sola domanda che è diventata un asferato vecchio siamo tutti d'accordo è un capolavoro ed è bellissimo anche il remake di Werner Herzog tra l'altro e di quello nuovo non me ne frega un cazzo ma vabbè lo vedrò questo l'abbiamo intuito è veramente uno di quei casi in cui uno sferato in cui è incredibile come un capolavoro sia veramente all'altezza dell'originale che già era una roba incredibilmente seminale sul vampiro in generale diciamo che dei vari mostri è uno di quelli che generalmente mi piace di meno perché la cosa che lo rende interessante è ciò che spesso sia affascinante dopo ciò che mi fa dire ma io gli voglio brutti schifosi che ringhiano non li voglio seducenti che le fangirl fantasticano sugli addominali di Gary Oldman quindi poi dipende tipo se guardiamo Dimiter e anche alcuni momenti del Dracula di Coppola lì si tira fuori il vampiraccio che piace a me però ovviamente è una figura estremamente importante poi anche tutta la metafora delle malattie trasmesse in un certo modo quindi sicuramente è una figura importantissima da riscoprire film migliori per me il miglior Dracula è quello appunto di Coppola insieme allo sferato di Herzog hai che gli amanti ho scoperto io sono ignorantissimo di Bram Stoker però chi è integralista fan di Bram Stoker invece detesta il Dracula di Coppola per esempio si anch'io si è stata Dracula perché nel senso si esatto sono rimasto sconvolto anch'io però io ho visto il miglior Dracula come attore è Christopher Lee infatti stavo per dirlo anch'io ma non solo come attore come iconicità cioè i film della Hammer in generale ma il Dracula di Christopher Lee è proprio un'icona cinematografica è incredibile c'ha quell'atmosfera quell'epicità anche proprio nella sua presenza scenica visto che era altissimo così inquietante infatti stavo per citarlo anch'io io mi rispettavo che è uscito Paolo però il mio primo contatto con il vampiro che mi spaventava a morte è in Fracchia contro Dracula tra l'altro ma c'è un signor film veramente bellissimo un progetto folle facciamo il sequel di Fracchia la belva umana cos'è? Fracchia contro Dracula che poi diventa un prequel perché moriva nel fracchia esatto a me faceva una paura fottuta e quindi fin dall'inizio il vampiro c'è stato poi sono passato anche dal Dracula di Scuola di Mostri che cito spesso in questi Lidi altro cult dove c'erano tutti i mostri classici della Universal e poi è chiaro quando ero piccolo io era il film proibito che poi ho visto più da grande e quindi anche per me Gary Oldman nel Dracula di Bram Stoker è un po' il Dracula per antonomasia poi ci sono tanti cult conosciuti o meno soprattutto degli anni 80 il buio si avvicina di Catherine Bigelow per me è un capolavoro ragazzi per tutti è un grande cult poi appunto ci ha avuto la cura Twilight è successo un po' quello che è successo e vabbè però devo dire che negli ultimi anni è un bel film di vampiri sinceramente ce n'è uno che per me è Daybreakers quello degli Spirit Brothers quelli di Predestination con Willem Dafoe e Ethan Hawke con una piccola parte di Sam Neill che andrebbe riscoperto non è un film bello però per essere un b-movie era molto molto interessante ma dai comunque c'è stato The Vampire Diaries alla fine ma che ne pensi che le le diamanti sopravvivono che a me manca o True Blood scusatemi True Blood ha avuto una prima stagione immensa dove finalmente c'era l'anti Twilight il vampiro che vuole scopare forte il sangue come rappresentazione no io non voglio quelli che hanno accettato la bevanda pseudo sangue sintetico ma poi insomma vogliono trombare vogliono il sangue poi purtroppo è una serie che dopo la seconda stagione si è persa completamente io della prima ero pazzo ma perché o sono super pop oramai questi vampiri cioè non riescono più a fare o li fanno mostruosi cioè di tipo non lo so io sono leggenda cioè nel senso che vabbè non erano proprio vampiri però o sono dei mostri animaleschi oppure sono invece quello dannato ma bellissimo protagonista buono cioè il vampiro vero come dovrebbe essere non c'è più tra l'altro sul Dracula di Coppola che io amo e che tra l'altro viene ristampato in 4k io sono già in 4k perché l'ho perso quando lo fecero uscire in un secondo era andato esaurito mi ricordo speriamo non risucceda però l'angry videogame nerd ha fatto un video molto interessante dove fa il confronto di tutti i film di Dracula e di quanto sono fedeli o meno al romanzo paradossalmente quello che ha più trasposizioni identiche al romanzo è proprio quello di Coppola ma allo stesso tempo poi è quello che si prende magari più libertà donando anche lì quasi una sorta di dannazione buona a Dracula lo trasforma poi diciamo che Coppola ha fatto la versione quello di Coppola è più fedele perché cerca di riprendere la struttura epistolare a modo suo anche come muore alla fine è l'unico film che lo uccide come muore nel libro cioè il palato e la luce del sole lo colpisce insomma c'è tutta una scena particolare perché per il resto in realtà molte cose però da questa caratterizzazione a Dracula che è diversa però in realtà ringrazio la chat perché mi ero dimenticato un altro trauma dell'impasto con il vampiro certo con il vampiro che all'epoca era e cito anche più recente anche se ormai è un film vecchio il remake di Ammazza Vampiri Friday Night con Colin Farrell che per me è un gioiellino io volevo chiudere citando invece Polanski con per favore non mordermi sul collo che fa ridere ma fa anche paurissima cioè il momento dell'inseguimento del vampiro con Polanski che scappa a me terrorizza ancora oggi cioè è solo la corsa di un uomo inseguito da un vampiro pure mi e poi c'è Sharon Tate che è bella come poche cose all'universo e poi come diceva Travatar quando c'è il simbolismo anche con le malattie c'è The Addiction di Abel Ferrara che è un altro capolavoro assoluto io punto tanto non lo citerà nessuno faccio contento De Vollo un videogioco che è Gabriel Knight 3 è un'avventura grafica quindi non dovete immaginare una situazione la Resident Evil è un investigativo i cattivi di turno sono i vampiri io vi garantisco che a giocarci sul computer ancora con lo schermo a tubo catodico in pieno giorno mi cagavo comunque sotto perché c'era questa colonna sonora il pianoforte suggestiva tu eri in quel posto dove effettivamente non è che ci fossero attacchi a sorpresa ma sapevi di trovarti in questa vigna dove probabilmente ci sono i vampiri di mezzo devi indagare investigare scopri cose inquietanti senti degli strani suoni sì sono dei vampiri fantastici quelli si ritorna un po' all'interpretazione classica dove sono dei nobili uomini ma con degli obiettivi particolari quindi il giusto compromesso e parlando di un film estremamente poco conosciuto se voi prendete il Blu-ray del Dracula con Bella Lugosi c'è anche la versione spagnola perché siccome c'era adesso l'internazionalità giravano proprio un altro film con la serie di sceneggiature ragazzi il film spagnolo è molto più bello di quello con Lugosi ha molta più atmosfera è molto più seducente perché gli attori avevano quel sangue latino che funzionava aveva un solo difetto quella versione porca vacca l'attore che fa Dracula se vedete così è proprio un deficiente se avessero preso Lugosi e l'avessero messo nel film spagnolo sarebbe venuto un capolavoro assoluto purtroppo da un lato ha il Dracula di Lugosi dove lui è fantastico ma il film è carino ma secondo me la Universal in quegli anni faceva di meglio oppure ha il Dracula spagnolo che atmosfera regia tutto fantastico ma c'è quel Dracula che lo guarda e fa ma porca quindi il Dracula perfetto di quegli anni non è mai arrivato vai Alex poi cambiamo domanda perché avevamo tanto tempo e ne abbiamo sentite solo due eh ma belle corpose più che altro mi stupisce che nessuno ha nominato Dracula morto e contento che secondo me è l'apid io l'ho fatto sempre quindi amore puro ovviamente Twilight è in un campionato a parte lo sclusiamo perché sennò non sarebbe giusto per Mel Brooks è vero e poi in generale visto che sono quello degli anime un po' se vi piacciono gli anime Tamarri e anche i vampiri guardatevi Helsing Ultimate non Helsing degli anni 90 Ultimate che è top bellissimo va bene poi chiusa Michele l'ha chiamato e ogni fa ed è giunto tra noi con il saluto Matioschi e tutto il resto in pace di red Venom 3 si chiamerà The Last Dance che presuppone come annunciato sarà l'ultimo capitolo della saga io però dubito la Marvel e la Sony soprattutto voglia rinunciare al personaggio dato che è il più popolare che possiedono a parte le varie varianti di Spider-Man quindi vi chiedo secondo voi cosa gli aspetta il futuro oltre magari a un'apparizione in Secret Wars o nel quarto Spider-Man Conta Molland mi chiedo se non possiamo aspettarci magari il simbionte sul nuovo ospite che sia nel suo o nell'MCU o magari di ciclarlo tra virgolette e sostituirlo con antivenom vorrei un po' di vostre idee diciamo grazie per le risposte e ottima puntata bisogna capire se il 3 incassa perché non è più certo ma è certo che entra in cassa Ale dai ma anche se il 3 non incassa lo fanno quello con Tom Holland insieme quello incassa un casino quindi o comunque io visto gli altri ospiti del simbionte per quanto è assurdo un Venom con il Flash Thompson di Tony Revolori lo vorrei vedere no allora a parte che Jack Hughes ha detto quello che possono fare Spider-Man 4 Secret Wars film con Tom Holland io continuo a ribadire Sinistri 6 sì sì infatti probabilmente l'ultimo film in singolo ma Tom Hardy mi sembra pienamente soddisfatto li scrive addirittura è una cosa che non viene mai menzionata ma nella sceneggiatura del secondo e del terzo c'è anche la sua penna mamma mia complimenti ma c'è lui forse perché improvvisando l'hanno dovuto accreditare perché c'è questa regola se improvvisi oltre un toto diventi cosceneggiatore che era una fregatura può essere però nel senso quindi ci mette del suono non è che è passivo a livello di partecipazione io non vedo l'ipotesi altri ospiti funziona lui è la stessa storia di Batman ma possono fare Batman Beyond magari un film animato un prodotto un po' particolare infatti con Miles hanno cominciato così ma in un film se tu ipotizziamo che il terzo vada bene tu ne hai fatti tre contomardi che vanno bene perché devi cambiare a meno che lui proprio non voglia farlo ma non mi sembra è l'anti-venom adesso ogni ogni venom che hanno tirato fuori nei fumetti è durato veramente cinque minuti alla fine si torna sempre Daddy Brock l'unica sarebbe proprio ovvio Tom Hardy per qualche motivo vuole proprio scazzare ma la vedo veramente come l'ultima spiaggia in cui dicono vabbè non abbiamo più Tom Hardy proviamo a fare vediamo se il simbionte va da altre parti se la gente lo accetta fanno magari un film va male e basta sì ma secondo me a un certo punto ci sarà il pastaggio di schifo quindi magari può esserci quello no a me comunque io sono curiosissimo di capire proprio la dinamica cioè questo terzo Venom avrà riferimenti al multiverso lui si ricorderà il fatto che è stato in No Way Home vedremo cosa succederà alla fine del film aprirà le porte a qualcosa questi sinistri 6 cominceranno a esistere Secret Wars lo vedremo non lo vedremo Spider-Man 4 vedremo se no il simbionte lo prende prima lo prende durante Secret Wars Tom Holland il film Spider-Man contro Venom arriverà sarà direttamente contro i sinistri 6 cioè sono proprio curioso di vedere quali strade tenteranno di fare visto che abbiamo capito che è sempre un po' una battaglia cioè Sony Marvel vogliamo fare i sinistri 6 no lo mettiamo in Spider-Man 4 no vuoi Kraven ma non lo so cioè vedo che comunque è sempre un po' ma poi partendo dal presupposto è l'unico personaggio che gli funziona e ho capito se Tom Hardy ti chiede qualche milione in più non glielo dai no infatti piuttosto fanno comunque mi fa morire in chat ma quanti personaggi ha l'universo Marvel e guardati quante versioni di Goblin ci sono ma altra cosa si si intitola The Last Dance quindi credo che l'intento sia quello di dare un senso di chiusura è una trilogia iniziale ma si fa è un'ipotesi così se fa 800 milioni 900 ma non lo fanno un quarto ovvio sono titoli relativi Avengers Endgame in teoria basta no infatti infatti è una prima chiusura io continuo a dirlo il capolavoro vero per quello si chiamate la anche si si il capolavoro vero rimane l'ultimo esorcismo perché poi hanno fatto l'ultimo esorcismo due per rispondere a quanti personaggi ragazzi sono storie che vanno avanti dagli anni 60 ma non solo noi abbiamo visto due simbionti nei film oltre Venom nei fumetti cioè Venom ha affiliato a dei livelli che non avete idea ha prodotto 27 dagli anni 60 la Marvel non ha fatto altro che pubblicare fumetti fate un po' voi quanti cattivi comprimari si sono dovuti inventare sti poveracci ma se ci pensate bene ogni personaggio della Marvel unico poi in realtà ha finito per avere 70 mila cloni cioè Hulk adesso quanti Hulk ci sono Superman quantissimo trae Green Goblin penso siamo arrivati non scherzo a 6 o 7 Hobgoblin poi c'è 6 o 7 ragazzi i Robin ormai la gente ce ne sono 3 o 4 con Damien se buonanotte sono 6 si 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 c'è stata la ragazzina dopo Damien la ragazzina e ce n'è uno prima di Jason Todd ce n'è uno sfigatissimo che dura era prima di crisi sulle terre infinite mi pare è stato wipeato via ma a prescindere ragazzi vorrei ricordare che Superman è l'ultimo figlio di Krypton e Batman è il vigilante solitario notizia flash questa cosa è passata poco nel mainstream ma Gordon il commissario è stato Batman per un po' si con un'armatura robot mi regalo questa chicca un'armatura robot e rasato a zero senza barba sembrava Michele quando faceva il sindacalista senza barba si 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 poi Francesco Gervasi un saluto a tutti il cast di Facce di Nerd visto che questa settimana siamo arrivati a metà stagione vi chiedo un parere generico per chi la sta seguendo sulla serie Shogun serie che sto apprezzando davvero tanto piccolo topic prima di salutarvi vi prego di spingere quanto più possibile X-Men 97 serie che già dalle prime due puntate sembra una vera chicca un saluto a tutti e buona puntata più che far la rubrica settimanale non so cos'altro potrei fare in ogni lido lo diremo che è bella ma io comunque vedo che sta è stata molto apprezzata su internet poi come abbiamo già detto ci vogliono i click delle persone però mi sembra sta andando bene tanto è uscito fuori che Feige Feige ha detto non che alla fine lui abbia sempre l'approvazione finale diciamo però il suo sì o no è importante pare che abbia detto per X-Men 97 va bene fatela ma voglio il cast di voci originali e dobbiamo avere i diritti sulla sigla se non possiamo usare quella non la facciamo poi magari sono le sue butade alla Feige però in effetti entrambe le cose le ha ottenute quindi bravo Shogun la sta guardando qualcuno? no e mi dispiace io sono in pari io ultimamente non riesco a seguire niente Alex mi impari poi le dico la mia sì vai cioè a parte che io ero già prima che fosse di moda io ero già appassionato di storia giapponese e boh cioè io non ho mai visto la serie degli anni 70 quant'era quindi non so adesso cose varie ma da quello che ecco perfetto allora innanzitutto Mariko Sama sposami adesso uno che è la protagonista dell'amata Monarch di Travatar io l'abbia in gloria sono abbastanza convinto che sia un personaggio più gradevole in Shogun che in Monarch ma a naso a naso senza neanche averla vista beh diciamo allora a parte che secondo me è scritta veramente bene cioè finalmente riesco a respirare su Disney Plus che fa troppo strano questa cosa qui una serie che non mi fa imbestialire che io li sento parlare sembrano delle persone vere che hanno delle reazioni logiche umane questo questo scontro tra lui che è inglese e loro che sono giapponesi poi nell'ultima puntata mamma mia poi non faccio spoiler perché è stupendo comunque qui secondo me è la cosa più importante in una serie cioè a me importa dei personaggi e dato che mi importa dei personaggi riesco a seguire il resto della storia e poi da quello che so c'è stata ma si vede c'è stata una cura maniacale per il contesto storico per i nomi robe varie quindi è tutto nel posto giusto senza stereotipi senza cose quindi veramente speriamo che vada avanti e cioè per adesso per me è proprio bella io l'aspetto ogni settimana perché è una puntata alla settimana l'aspetto con ansia dico oh che bello è uscito Shogun ma io ho letto poi magari non sarà così che dovrebbe avere un finale e che non faranno altre stagioni a pare è un romanzo solo poi gli altri l'autore ma con una struttura da quanto ho capito antologica nel senso che si va avanti però volendo uno magari fa altre mi sei ispirata agli altri sì sì per me faranno quello fanno gli altri romanzi trasposti certo io mi sono fregato con le mie mani su Shogun perché mesi fa io ho il romanzo in casa da una vita e sono di quelli se esce l'adattamento se mi interessa prima voglio leggere il romanzo e l'ho iniziato troppo tardi in un momento gli ultimi tre mesi che sono stati abbastanza complicati e sono più o meno a metà però appunto essendo arrivato a metà l'altro giorno ho detto via mi fai vedere magari il pilota che insomma che cavolo mi deve spoilerare e ho trovato innanzitutto una produzione di altissimo livello tecnico che si vede come diceva Alex che è curata nei minimi dettagli e che ha le grandi ambizioni poi mi maledico perché io ce l'ho tutta inclusi gli episodi che non sono usciti da un mese e non ho potuto sfruttare l'anteprima no però appunto ho fatto bene Alex accettando perché quasi nessuno sa che esiste questa versione di cui era super appassionata mia nonna che tipo negli anni 70 ha fatto decine di milioni centinaia di milioni di spettatori nel mondo sto cofanetto c'è anche la versione film rimontata tipo riassuntone è fuori catalogo è italiano però lo trovate su ebay subinted questo è proprio un cultone degli anni 70 televisivi americani una grande produzione dell'epoca e ci sono molto affezionato quindi si la recupererò mano a mano che vado avanti con la lettura tra l'altro c'è Nestor Carbonell nel pilota eh dottor Mattiasi grande sì ma io l'ho vista infatti adesso vi dico la mia ok giusto giusto scusami io sono fermo alla quarta puntata però quindi non ho guardato la quinta io la trovo fatta benissimo mi intriga e è un piacere guardarla in tutto e per tutto c'è una solidità alla base non ci sono situazioni che ti fanno pensare oddio quali forzature magari ogni tanto è un po' difficile star dietro a tutti gli intrighi intrecci però si fa seguire io a differenza di Alex ho un problema che è un po' un controsenso dopo quello che ho detto ma non riesco ad appassionarmi ai personaggi invece la trovo molto fredda mi piace il contesto seguire gli intrighi ma a conti fatti non la sento calorosa non ho quella fregola cavolo c'è la nuova puntata chissà cosa accade oddio ma quello lì cosa farà poi e quegli altri ma lo capisco perché l'impressione mi è stata hanno apparecchiato bene la tavola degli intrighi degli intrecci narrativi però in effetti loro mi sono sembrati tutti abbastanza rigidi come personaggi incluso Blackthorn infatti speravo Blackthorn poi ovviamente anche perché vogliono fare la distinzione tra lui e gli altri è quello più carismatico con anche dei momenti di umorismo non sguaiato ma sempre contestualizzati ed un po' il nostro corrispettivo all'interno della serie perché è lo straniero che deve adattarsi a un luogo insolito però mi manca magari arriverà ma mi manca quel quid che mi faccia dire caspita è la mia serie preferita mi manca proprio quel ma potrebbe anche essere che la cultura giapponese che già oggi è rigida ma nel 1600 era ancora e quindi anzi 1599 siamo precisi per carità non lo dicono ve lo dico io che siamo in quell'anno lì può essere questo che magari è una cosa un po' lontana da te e quindi non riesci a comunque chi in chat lo definiva il Game of Thrones giapponese magari a livello televisivo sì però il romanzo di Shokun è dell'anni 70 ben prima che Martin scrivesse però credo che abbiano cercato di rifarsi un po' alla serie HBO come modo di raccontare certe cose quindi comunque è assolutamente approvata mi manca proprio un pezzettino per farmela entrare nel Corazon vedo che ci sono le potenzialità non arrivo mai completamente stanziato ora ti porto sfiga l'ultima volta che hai detto bello ma freddo era di un parte 1 è vero è vero è vero è detto come è andato con la parte 2 stiamo freschi Matteo Guarnieri ciao Mattia ciao a tutte le facce di nerd oggi volevo farvi una domanda un po' così del cavolo e volevo chiedervi se avete mai provato verso un attore o un'attrice una sorta di repulsione di rigetto totale verso appunto l'attore o l'attrice di turno per i più disparati motivi non so magari perché li ritenete veramente cattivi nel loro nel loro lavoro o perché proprio a pelle vi stanno antipatici roba che li vedete e cambiate canale e interrompete il film e proprio veramente a pelle non li sopportate io devo dire che recentemente negli ultimi anni sto provando questa cosa nei confronti di Barry Keoghan riconosco che sia bravissimo ma a pelle io non riesco a vederlo e tutto ciò un po' mi preoccupa per The Batman 2 e invece voi grazie ciao alla prossima io l'ho già nominato varie volte prima che diventasse Michele Innocenti infatti adesso li voglio molto bene ma prima no è Russell Crowe io quando vedevo i suoi tre dicevo odio questo film c'è uno esploratore deve fare questo con Russell Crowe che palle Master in Commander ma anche Gladiatore forse perché c'è Crowe a me non ha mai adesso che però è diventato te Michele forse è questo il motivo mi invece mi piace riesco a farmi una foto che viene a suonare a Livorno quest'estate scoppia l'internet poi è bravissimo quando ho visto le sue interpretazioni però come diceva prima Andros io vedo la faccia di Crowe dico madonna non c'ho voglia di vedere il film basta e Kyogan lo capisco però un po' non è simpatico per Kyogan c'è quella faccina lì anche in Eternals che infatti sembrava un merdone nel film e poi non era lui io Antipatia Forti non ne ho però diciamo che non sono mai stato conquistato da Millie Bobby Brown io ho visto solo la prima di Stranger Things tutti a dire bravissimo a me la prodigio pensavo bozza sempre lì così anche nel Monsterverse che la rappresentante del team Godzilla io dovrei essere lì ero lì che pensavo qualcuno la può spiaccicare che si leva dai coglioni sta cretina un attore che in realtà è bravo però nella maggior parte dell'ora che ha fatto non mi piace perché secondo me si è sprecato è Will Ferrell nel senso in film tipo vero come la finzione è un grande ma poi penso a Elf e a tutti quei ruoli in cui si prende a fare no no e fa le faccine e fa i grugniti veramente lo piglierei a sberle mannaggia ma quando si contiene quando fai il bravo penso cacchio ma non può essere è bello perché Travatar finisce sempre in violenza verso l'attore sempre e scusa ho detto ti sta antipatica vedi no lo so io non io non reggo Tessa Thompson ma già è dai tempi di porca vacca ai tempi di Westward che la prima stagione è perfetta appena arriva Tessa Thompson dico ma che palle e poi in Thor lei sarà Valkyrie torca troia io mi farei tra l'altro tra l'altro l'ho vista dal vivo invece carinissima foto con tutti simpatica sorriso no io distruggerò il cuore di Paolo a distanza perché ripiego sull'italianità quelli stranieri forse percepisco un distacco quindi non nutro sentimenti così comunque questa domanda c'era già stata fatta perché so chi stai per dire chi sto per dire secondo me Brignano bravo Brignano mi ispira un'antipatia incredibile poi non lo conosco sarà la persona che prova del mondo ovviamente si parla certo però a livello artistico non mi ha mai fatto ridere io a volte lo sfido se facendo zapping mi imbatto in un suo spettacolo mi fermo fammi ridere fammi ridere rimango lì 5 minuti ragazzi non è mai successo anzi fa delle cose che a volte mi fanno dire ma come fa ad avere questo riscontro poverino enorme pazzesco però ne metto anche altri due Enzo Salvi purtroppo anch'io e lui tra l'altro lui di persona non è che l'ho conosciuto ma l'ho visto dal vivo con un accenno di chiacchiera è una persona probabilmente di una bontà gigantesca un convinto anch'io mi ricordo quando quando gli hanno preso a sassate il pappagallo poverino e si stava malissimo per questa roba però anche e Paolo lo ama la follia Enzo Salvi ma in un modo impossibile da concepire capisco che è Paolo però e anche lì semplicemente interpretazioni saranno persone Biagio Izzo no lui lui con alcuni cinepanettoni gli ho voluto tipo bodyguard e almeno i cinepanettoni ha proprio una faccia da cazzotti che gli dico vai via vai via ti prego no 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 a me non viene nessuno in particolare ci sono alcune antipatie che ho Jared Leto non so perché mi sta sui coglioni Alicia Vikander a me forse perché ho fatto solo quasi cioffè un amico che non sopporta Alicia Vikander nel film che era a Venezia non l'ha sopportata per dire ma sì per forza però ecco direi che do la risposta più intelligente di tutte dico Paolo Innocenti che fa anche l'attore quindi siamo perfettamente in tema beh poi ne vedo altri in chat di livello tipo Pio Medeo mamma mia mamma i soliti idioti no non ho mai fatto no neanche io li odio io sarà però allora come soliti idioti io non rido neanche per sbaglio però per dire Biggio quando lo vedo con Fiorello mi sta simpatico ad esempio no a me prima quando facevano su MTV le cose con Jeep c'è stata una fase della mia vita in cui li trovavo geniali dei soliti idioti in avanti in qualsiasi prodotto anche a fianco di Fiorello ma sapendo anche qualche retroscena ah Biggio ok potete bannare mentre Michele B esatto è stato appena bannato dal canale non ho visto cosa ha scritto ah no bello averti tra noi però è vero cioè perché hanno avuto un momento di successo esplosivo ma ci sono delle piccole faglie che non li hanno non li sopportano io non lo trovo concepibile però e noi le estingueremo tutte esatto esatto sono finite le domande audio di Super Chat non ne vedo leggiamo una domanda della chat vedete che poi perdete questa occasione ci fosse stata la Super Chat eravate pronti vedete vedete vai vai adesso all'ultimo secondo una bella Super Chat altrimenti se arriva una domandina interessante siamo qua we are here appunto se mi dici Aldo Giovanni e Giacomo per quello che hanno fatto negli ultimi anni dico capisco che non siano stati brillantissimi però secondo me si parla proprio di capito di attore che non supporti capito c'è un attore che dici anche se fa un film brutto però appena vedi Giovanni capito lo ami io l'ho posto appena vedo certe facce ma poi ripeto è veramente a pelle il povero Russell Crow non mi ha fatto nulla si forse la casistica più particolare la gente non capisce quando ne parlo ma proprio io non so quale domanda selezionare perché abbiamo anche poco tempo io ne ho una io ce l'ho io ce l'ho una l'uomo è iniziato prima ok no ma per me è velocissima che chiaramente è cosa ne pensate il prossimo Jurassic Park in realtà nulla perché non è che se ne sappia molto però i rumor dicono Jurassic City Jurassic City e dovrebbe arrivare il 2 luglio 2025 io se non si muovono non so come fanno a tirarlo fuori un film ormai già Fantastici 4 un po' mi spaventa perché se devono dare il tempo a fare tutte le postproduzioni eccetera sta roba di fare i film in nove mesi quando sono dei blockbuster però spero sia un po' più in piccolo cioè se si chiama veramente Jurassic City spero vadano un po' a ridursi e la mia idea che mi era venuta in testa in un sogno in un delirio era città completamente oramai astragliata dai dinosauri quindi tipo città fantasma Cadillac and Dinosaurs c'è qualcuno dentro da salvare magari una città addirittura chiusa all'Arkham City dobbiamo entrare prendere Tizio e portarlo fuori quindi è un survival quindi Tremors incontra Fuga da New York si Fuga da New York incontra Jurassic Park però capito lo fai piccolino perché secondo me quando rifai una terza trilogia devi ritornare un attimo ma guarda che se ci pensi ma guarda uomo se ci pensi un attimo siccome dovrebbe essere The Edwards è un po' lo spunto dell'ultima parte dei film in cui devono penetrare in città per prendere la bomba che erano una persona e anche Monsters il primo film di Edwards guardate che comunque erano questi in mezzo a una città con le creature che non si vedevano mai e anche Ruguane infiltrati e ruba sì però posso posso un po' ridimensionarvi innanzitutto l'ultimo ha fatto il miliardo quindi non so perché dovrebbero far qualcosa di più piccolo in secondo luogo è un rimpiazzo Gareth Edwards l'avevano proposto un penso che andrà a influenzare la natura del progetto quello che intendo era che magari qualche bella inquadratura magari ce la mette è un dubbio almeno è uno che ci sa fare con la macchina da presa e non con l'intreborro per me puoi anche mettere Godzilla che spacca la città io quello che intendo è che magari Mondo Perduto i dinosauri arrivavano in città facevano casino Jurassic World era ritornato a fare il parco e poi si è ingigantito riportando Jurassic World quindi dicevo magari qua oppure no magari sarà veramente Cadillac e dinosauri se è contenuto in una città magari con tanti dinosauri però una città piccola sarebbe sia contenuto l'ultimo non è che fosse c'è l'ultimo era contenuto volendo cavolo sono in Svizzera tra le altre andavano in quell'isola line e finavano quell'isola in quella vallata può essere appunto un'avventura che porta qualcosa in più cioè quello che devono recuperare è in sé non so la fiala del prossimo progetto genetico la porcata del genere la terza persona che cita Army of the Dead verrà uccisa in chat intanto qua appena detto Army of the Dead ci stiano spegnendo fa capire che dobbiamo chiudere la puntata sono morti i dolori volevo solo rispondere a una domanda prossimo filone imperante dopo i cinecomic io chiedo filone imperante prima dei cinecomic Travatar ci vediamo grazie mille per aver partecipato ero io il filone imperante prima dei cinecomic non ho detto Travatar a casa sono proprio io era Travatar fantascienza in generale dai ecco book insomma Jurassic Park Star Wars insomma c'erano un po' ragazzi ne parliamo se va male ne parliamo fra 15 anni del prossimo filone fidatevi di me ma in realtà c'era di una cosa non è che è imperante il filone è imperante una saga che però appunto si mangiava metà filone cioè la Marvel eh no esatto guarda veramente gli appassionati di fantascienza vi direbbero ma magari fosse stata la fantascienza il filone imperante secondo me no sì ecco mi hanno anticipato io volevo chiediamolo all'esperto a Dave Filoni eh sì mamma mia vabbè se c'entra Titanic Titanic vabbè Titanic no non era fantascienza ma lo stesso tempo sapete qual era il filone qual era il filone prima dei cinecom fantasy con le grandi star anche esatto no ma infatti io giocavo sull'ironia mi spiego certo non è che finisce una cosa e dopo due minuti c'è l'altra potrebbero esserci vent'anni in cui ci sono film di vario tipo ehm l'anno scorso i successi sono stati Barbie Oppenheimer Super Mario infatti queste sono le fisse dell'internet cioè ehm è vero cioè non mi sembra che negli anni in cui trionfavano gli spaghetti western non uscissero i film di Dario Argento i film di Fellini i film di di chi ne so io però se effettivamente in quegli anni c'è stata una produzione western intensissima ed è ovvio che ci puntassero prima c'erano i peplum e prima però nel frattore cioè noi individuiamo questi filoni però completamente eh togliendoli dal contesto del cinema che usciva in quegli anni non è che uscivano no ovvio come in questi anni io dico sempre io ogni anno mamma mia solo cinecomic vedrò un cinecomic ogni dieci film ma non era una domanda polemica secondo me era curiosa cioè si domandava quale altro genere ma secondo me non ci sarà nell'immediato no no ci saranno casi singoli e va bene così eh ma per dire anche adesso il fin di questi primi mesi di cui si parla di più è di una fantascienza eh che vuole essere e infatti mi hanno già chiesto ma rilancerà il filone secondo me no ma va ma c'è stato avatar ci sarà avatar comunque cioè quello è equiparabile secondo me siamo la fantascienza però ha delle frecce al suo però basta dobbiamo salutarci ciao Michele mai io sono molto arrabbiato con Uomo perché con queste anche polemiche lanciate dalle sue risposte su Jurassic City non ho potuto confrontarmi tre quattro minuti con il dottor Matioschi sul problema dei tre corpi fateci una super ciatta la prossima settimana se in questi giorni la recuperate se no poi io ho visto solo la prima puntata tu l'hai vista tutta ti scontro infatti scusate Michele 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 ha visto io sto stato qui invece di andare a vedere Ross Villain e mi trattate così e ne valse la pena abbiamo parlato di The Mask e di un sacco di roba boom clic clic boom The House of the Dragons Uomo la congedo se no grazie Mattia grazie a tutti io volevo rispondere col fantasy prima sul filone ci sono gli anelli Harry Potter Narnia c'è stato un po' un momento prima di Harry Potter poi gli altri erano tutti i floponi anche Narnia però ci provavano ok allora possiamo dire che c'è stato anche il filone Teen Adult poi io con filone è identico il provarci perché se no come diceva Travatar non c'è neanche il filone di supereroi cioè il filone Marvel e basta però ad esempio è evidente che stiano cercando di puntare sui videogiochi adesso ma se la domanda era cinecomic ragazzi è palese che negli ultimi dieci anni abbiano dominato il mercato e non mi pare che altri ce l'abbiano fatto Alex grazie e volevo dire che Michele ha visto il problema di tre porci vi saluto tutti quanti bellissima puntata ho controllato la data in cui dovrebbe uscire House of the Dragon e mi sono reso conto che io due settimane due puntate me le perdo perché sono a fare tutt'altro per uno scavo e sono contento meglio lo scavo archeologico quindi sei tu che fornirei l'incipit a Jurassic City esatto esatto va bene va bene grazie Montesco di Drago fornisce l'incipit per la prossima stagione di House of the Dragon bene ci vediamo con facce di nerd venerdì prossimo alle 17 forse parleremo di Godzilla e Kong vediamo un po' vediamo un po' e gli appuntamenti ricominciano lunedì non so che ora con il Matioski Show perché forse devo andare a un'anteprima quindi potrebbe essere alle 17 solo Matioski Show vi aggiorno ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao